Io e la mia classe, la terza B del liceo classico, abbiamo realizzato una narrazione, o anche detto storytelling, di tutte le rassegne che si sono avvicendate annualmente dal 1999 sino ad oggi. Nonostante i progressi tecnologici e il susseguirsi delle generazioni, siamo riusciti a preservare il patrimonio teatrale, radicato da sempre nella cultura mediterranea. Questa esperienza rientra pieno nel programma Entrecomp, che ci ha permesso di sviluppare le nostre capacità di imprenditività, fondamentali per interfacciarci con un mondo più ampio ed entrare a più stretto contatto con l'orizzonte europeo. Inoltre, questo PCTO ci ha dato l'opportunità di organizzare un evento in modo autonomo e di sviluppare la nostra capacità di collaborazione e programmazione, tenendo conto delle diverse qualità che ognuno di noi possiede, alimentando così uno spirito di gruppo necessario per uno svolgimento ultimale del progetto. Tutto questo ci ha permesso di provare un sentimento di indipendenza e sfida verso nuove prove, affrontando un'esperienza al di fuori della nostra ordinaria quotidianità da studenti. Ora, al termine di questo percorso, ci siamo ritrovati più maturi e più consapevoli di ciò che siamo e ciò di cui siamo capaci. Siamo inoltre più vicini, più uniti. La mia classe e io abbiamo realizzato la storia di ogni festivale dal 1999 fino adesso. Siamo iniziati a preservare il territorio di nostra cultura. La esperienza di programma intercom, gave us the chance to develop our entrepreneurship capacities to interface with a wider world and to enter closer with the European horizon. Furthermore, this PCTO has given us the opportunity to organize an event independently and to develop our capacity for cooperation and programming that has increased our group's purity necessary to achieve projects. All of this allowed us to experience a feeling of independence and challenge towards new evidence, facing an experience outside our ordinary student day. Now, at the end of this path, we have found ourselves more mature and more aware of what we are and what we are capable of. Sì, diamo subito la parola dopo la visione dello storytelling, della narrazione, della rassegna del teatro dopo l'introduzione generosamente donata da Monio Vadia, chiudiamo questo cerchio con le riflessioni di uno dei protagonisti di questa rassegna che è il Preside Filippo Tarantino. Preside, può attivare il microfono? Bene, buonasera, buonasera a tutti. Un complimento vivissimo alle ragazze che hanno preparato questo storytelling e un grazie affettuosissimo al Preside Clemente, ad Annalisa De Vincenzo, a Clara De Mari e a quanti hanno voluto prendere questo pezzo di archeologia che adesso vi parla, perché forse è utile ecco a tornare un pochino alle origini, alle arcai di questa attività. L'introduzione di Monio Vadia è stata davvero una sorprendente e bellissima occasione per poter collocare la nostra rassegna alla 26esima sua edizione all'interno di una storia nobile. Monio Vadia ha ricordato Dario Fo e anche io con orgoglio ricordo quando la nostra rassegna ha avuto l'innesto del rapporto con l'ente teatrale Friuli Venezia Giulia che ci ha consentito, De Ruvo e Dio, credo che qualche volta sia venuta anche la professoressa Carlucci che se per caso ascolta saluta affettuosamente, abbiamo avuto occasione lì negli incontri presso l'ente teatrale Friuli Venezia Giulia di incontrare questi maestri, c'era Monio Vadia, c'era Dario Fo, c'era Enzo Iannacci, c'era anche Pino Rovereto e lì con Laura Perissinotto abbiamo dato un salto di qualità e una impostazione più ricca alla nostra attività che così si è inserita all'interno delle tante importanti rassegne teatrali. Avete ricordato in questo rapido discorso sui 26 anni di rassegna avete ricordato tanti, ecco l'avete citato ma questa sera mi manca molto la citazione di Mosca, del liceo di Mosca che veniva due volte all'anno da noi si era così affezionato che ci portava i suoi spettacoli e noi davvero li avevamo integrati benissimo all'interno delle nostre attività, come ovviamente manca tantissimo Fernando Balestra che è stato l'altro innesto forte per la nostra rassegna in quanto ha consentito di associare al Tamura Siracusa, la rassegna internazionale del teatro classico scolastico del Cagnazzi alla INDA, all'Istituto Nazionale del Drama Antico e questo è stato un dono che certamente abbiamo meritato ma che comunque testimonia la grandiosità di questo talent scout che fu Fernando Balestra. Ma non solo da meno Anna Cornacchia, la De Vincenzo e quanti hanno continuato questa tradizione, non vedo Donata De Ruvo che comunque avete citato ed è molto presente ecco il teatro del Cagnazzi, ci tengo a dirlo, voi avete ricordato il teatro Mercadante e avete fatto bene ma a me piace un po' ecco come un pezzo di archeologia, ve l'ho detto prima, a me piace ricordare l'atrio del Cagnazzi, l'atrio del Cagnazzi non è meno vivo, non è meno importante può darsi che non dica nulla a coloro che vi arrivano la prima volta, ma ogni volta che io passo, anche l'altro giorno che sono passato io sento in quel nostro atrio la presenza di tanti e tanti giovani che nell'arco di questi anni hanno animato la nostra rassegna perché la nostra rassegna ha posto sempre nell'ultima settimana di maggio, ha posto sempre il nostro liceo nel cuore della città non so se c'è un rappresentante dell'amministrazione comunale, caro Biagio, ma questa nostra rassegna è sempre stata la festa della città di Altamura che ci ha riconosciuto questo ruolo importante, certo altri tentativi di rassegna con sostegno di enti pubblici, anche con tutto il senso che la parola ha anche con i favori di alcuni enti, per esempio addirittura il Ministero degli Affari Esteri c'entra per alcune rassegne io lo dico anche con un po' di rammarico per quella algida distanza del Ministero della pubblica istruzione che non si è nemmeno accorto di questo tesoro che c'era in questa periferia della Puglia che è Altamura per la periferia per qualcuno, ma noi non abbiamo mai immaginato di sentirci periferia, tutt'altro, tutt'altro e quindi dicevo provo il rammarico per quella algida distanza degli incompetenti del MIUR che in alcune loro articolazioni periferiche non si sono accorti che ci eravamo, ma mi porto dentro ancora tutto l'orgoglio per aver fatto cose grandi con mezzi piccoli, quasi da nulla e lo dico non per sentirmi un po' sopravvissuto da un percorso difficile, ha fatto bene Moneovaglia a ricordare Odisseo che alla corte di Alcinoa raccontava la sua storia, questa storia bellissima dicevo lo dico questo non certo per sottolineare chissà quali eventi, quanto per sottolineare invece la tenacia di tutti quanti coloro che hanno creduto e hanno voluto lavorare per la nostra rassegna l'elenco delle scuole partecipanti a 26 anni dall'inizio e nonostante la tempesta del Covid conferma la fecondità di questa iniziativa ma anche la sua anima umanistica e transnazionale è bellissimo vedere quante nazioni partecipano alla nostra attività però mi è caro segnalare questa sera la presenza del liceo San Carlo Muratori di Modena beh permettetemi un conflitto di interessi ma il liceo San Carlo via Ganaceto a Modena è stato il mio primo liceo da preside e quindi me lo porto nel cuore anche per l'ammirazione che ho conservato per delle persone meravigliose che hanno accolto tutte le possibilità di sviluppo che un liceo aveva e mi hanno dato lo spagio necessario per realizzare delle cose e naturalmente vedere Fiorella e il liceo di Ostuni è per me un fatto importante perché il liceo di Ostuni è stato il nostro compagno non di viaggio cioè si ci ha affiancato ad un certo momento ma poi è diventato elemento trainante quindi Alessandro Fiorella, Antonella Iroldi, Isabella tutti questi amici che hanno allargato all'area di Fasano, Ostuni e Ignazia la presenza del nostro teatro e questa è una cosa davvero tanto tanto bella la composizione della giuria ho visto annovera docenti, fondatori, animatori senza discontinuità di questa nostra rassegna non hanno mai perduto l'entusiasmo non faccio i nomi per brevità ma sapete a chi mi riferisco e naturalmente vedere nell'elenco dei giurati Laura Perissinotto che devo dirvi, è una soddisfazione enorme perché quando noi abbiamo incontrato la prima volta la Perissinotto a Udine non sapevamo che avremmo potuto percorrere una strada così lunga e ancora così promettente naturalmente parlare di giuria significa ricordare anche i tempi in cui la sera dell'ultimo giorno ci riunivamo davanti al computer tutti quanti i giurati nella sala della presidenza e lì con tutti quanti i nostri appunti mettevamo ordine nelle nostre idee e stilavamo le motivazioni dei premi della graduazione dei partecipanti e come faccio a non ricordare Elisabetta Durante Franco Romano che erano tra i giurati e si mettevano loro stessi alla tastiera del computer per umilmente partecipare alla stesura dei giudizi certo, certo, sono cose bellissime avete ricordato anche Pino Roverei della Compagnia Instabile perché noi abbiamo fatto teatro classico, scolastico però abbiamo potuto accogliere sui nostri improvvisati palchi e ci tengo a dire poveri palchi ma bellissimi abbiamo accolto anche la compagnia instabile di Pino Rovereto e non aggiungo altro perché diventerebbe troppo lungo io posso dire soltanto la mia gratitudine per questi ragazzi bravissimi bravissimi ovviamente per i professori che sono stati vicini per i preside che generosamente ha consentito che venissero fuori queste potenzialità e si attuassero io ho ricordato davvero con immenso piacere vedendo le locandine ho ricordato gli appuntamenti di approfondimento sul teatro che sono stati un altro punto qualificante della nostra rassegna e quegli appuntamenti portano tutti un titolo molto pensato molto discusso e soprattutto molto ben indovinato mi permetto di ricordarne due soltanto ma voi li avete detti tutti uno era il teatro come ermeneutica infinita proprio a dire che i temi possono essere gli stessi l'antigone delle sue varie interpretazioni ma questa ermeneutica questa capacità di trarre dagli archetipi del passato dei grandi nostri tragediografi questa capacità di trarre i messaggi per oggi è vero Fiorella quanto sei bravo in questo e quindi dicevo detto Fiorella ma sapete lo siete tutti questa capacità è sempre una capacità bella per cui il teatro come ermeneutica infinita e l'altro da teatro alla gora un altro titolo bellissimo un titolo anche questo discusso perché è nato dalla esperienza diretta viva me lo ricordo ancora quando con mia somma sorpresa mi resi conto che a Lucca c'è una piazza che prima era teatro e ebbe così immediatamente questa intuizione dal teatro all'agora e in realtà noi abbiamo sempre fatto del nostro della nostra rassegna un luogo di continua discussione pubblica grazie a tutti buon lavoro grazie Filippo grazie hai rievocato veramente in sintesi 26 anni di questa nostra passione dico nostra perché non è solamente mia tua ma è appartiene un po' a tutto il nostro come dire entourage del Cagnazzi non c'è cosa più bella che ecco insomma cogliere l'entusiasmo con come dire e con l'idea che questo entusiasmo sia l'elemento diffusore di questa nostra volontà e se non c'è entusiasmo ecco difficilmente si potranno fare le cose io credo che adesso dobbiamo dare subito spazio al prossimo evento e quindi cara chi è Mimma a te il microfono allora soltanto una battuta intanto ringrazio il Preside Tarantino ovviamente è un momento di forte emozione per noi tutti perché ricordare vuol dire appunto rimettere nel cuore e approfitto della situazione l'occasione propizia per consegnare al Preside e quindi alla scuola il volumetto che ho ricevuto l'anno scorso durante il tempo della pandemia appunto quando non si poteva neanche venire a Daltamura il volumetto che mi hanno fatto tenere gli amici siracusani con una raccolta di scritti di Fernando Balestra ecco quindi questo è il libro il Preside Tarantino ha ricordato molto con molta precisione con molta anche attenzione a mettere a fuoco che cosa è stata la collaborazione con Balestra io voglio soltanto aggiungere che questa è cominciata proprio nello stesso anno in cui Balestra arrivava ad essere soprintendente a Siracusa e non è stato un fatto casuale perché noi come Rassegna l'avevamo chiamato per chiedergli un intervento ed egli ha subito capito che c'era qualcosa che si muoveva qualcosa di molto forte di vero di autentico in questo contesto in questo ambiente e ha esercitato da quel momento in poi proprio quel ruolo di quel magistero che ci è stato utile insieme ai tanti altri che abbiamo ricordato e questo magistero era soprattutto ricordiamolo qui perché è un modo per rendergli onore focalizzato sul tema vero Anna del teatro come strumento proprio di formazione e di educazione quell'interpretazione a calco cui si faceva riferimento prima che caro preside Tarantino attinge proprio all'ambito archeologico e che ci insegna una cosa molto importante che i relitti archeologici se riempiti in maniera opportuna possono restituire la vita di quelle e così delle persone o delle situazioni del passato e Balestra ha trovato in questa scuola proprio il luogo ideale in cui mettere a punto sperimentare in primis questo metodo dell'interpretazione a calco che in sintesi riportata diciamo a livello del teatro scolastico significa fare in modo lo ripeteva spesso lui che gli studenti non dovessero recitare cioè citare di nuovo ma dovessero vivere nei propri corpi ma anche nel proprio spirito nella propria intimità il senso del testo ecco gli siamo molto grati come pure gli siamo grati e qui chiudo questo breve omaggio insomma a Fernando Balestra che aveva accolto e aveva condiviso come quello che il prezio di Tarantino poco fa sottolineava il fatto che una rassegna non dovesse essere soltanto un palcoscenico di scuole e di lavori anche di grande qualità ma dovesse essere un luogo di riflessione questo noi l'avevamo già avviato da sempre l'avevamo l'avevamo vissuto e abbiamo continuato a pensare ecco uno dei titoli importanti che io non dimentico e che però potrebbe anche riassumere tutti i convegni che abbiamo fatto sul teatro il teatro per la messa a fuoco dei valori quindi farlo assistervi ma nello stesso tempo introitare e portarci dentro nella vita quei valori che ci trasmette ecco vi ringrazio ancora di avermi dato questo spazio che era volto chiaramente a ricordare Fernando Balestra e a ringraziare il preside Tarantino per questo per questo importante ricostruzione della nostra storia noi siamo in una scuola che si fonda no? sulla sull'elaborazione del passato per per vivere al meglio il presente per costruire un futuro migliore e speriamo che sia veramente tale grazie grazie Mima grazie ringraziamo il preside Filippo Tarantino per il suo prezioso contributo e le sue riflessioni e diamo inizio agli spettacoli di quest'ultima serata grazie grazie a il headmaster Filippo Tarantino e ora cominciamo con le performance di questa mattina ringrazio 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 e benvenuti alla terza serata della ventesiesima rassegna internazionale del teatro classico scolastico di Alicio Cagnazzi inauguriamo la terza giornata con il primo spettacolo a cura dell'istituto Muratori San Carlo di Modena che porta in scena l'anfitrione Giove sfrutta l'assenza del generale tebano anfitrione per assumere il suo aspetto e unirsi in una lunghissima notte d'amore con sua moglie la bella Alquina in ansia per la casa del marito per cui Giove sfrutta l'assenza del servo di anfitrione il povero Sosia a ritorno a casa si imbatte con un altro se stesso tentando in vano di difendere la propria identità il tema del doppio e dello specchio fanno qui la loro comparsa nel teatro antico in una tragica medesila rale ricca di cui ocezzi alla famosa vi lascio il spettacolo buona visione lo volete no? che vi tenga bordone negli affari che vi dia una mano nei commerci che vi faccia buscare un don profitto lo volete? lo volete che sistemi i vostri conti e i vostri affari dentro e fuori di casa e che faccia marciare a gonfiere le vostre iniziative presenti e future lo volete? lo volete che porti buone notizie a voi e i vostri cari e che vi riferisca a puntino tutto ciò che vi preme perché io lo sapete lo sapete sono quello che governa notizie e guadagna come hanno deciso gli altri dei le volete insomma? insomma e queste cose volete che ce la metta tutta perché il guadagno non vi manchi mai? mai e allora ascoltatela in silenzio questa commedia siate dei giudici imparziali e onesti perché sono qui? per ordine di chi sono venuto? adesso ve lo dico sono qua per ordine di Giove e il mio nome è Mercurio mi ha spedito qui mio padre per pregarvi pregarvi? sì ma anche se lo sa bene lui che ogni sua parola è un ordine per voi e che voi lo temete e onorate lui è Giove per me e sia come sia mi ha comandato di parlarvi in forma di preghiera con molto garbo e massima dolcezza il fatto è che Giove il Giove che mi manda sente strizza e quanti molti modi voi suo padre e sua madre erano dei mortali poveracci e quindi nessuna meraviglia se lui affipa per se stesso e io no io figlio di Giove mi prendo paura per contagio di papà per questo vengo in pace in pace di ombre che cosa voglio? una cosa giusta e facile da chiedere sì io sono un uomo giusto sono qui come portavoce di uomini giusti nel nome della giustizia chiedere ai giusti cose ingiuste è un'indecenza ma chiedere agli ingiusti cose giuste è una stupidaggine no? dato che quei mascalzoni manco lo sanno che cosa sia il diritto se ne infischiamo pure adesso però fate attenzione alle mie parole tutti quanti ciò che vogliamo noi lo dovete volere pure voi perché in fondo voi allo stato ce l'avete qualche dibituccio verso di me il mio genitore nelle tragedie gli altri dei mettuno il valore la vittoria marte belluna li ha visti con i miei occhi che vi sbattevano in faccia tutto il bene che vi avevano fatto dovrei ricordarvi che di tutto quel bene l'autore vero è mio padre il re degli dèi ma lui non ha mai avuto l'abitudine di rinfacciare alla buona gente i suoi benefici è convinto che gliene siate grati e che sia giusto trattarvi come vi tratta ora vi dico punto primo che cosa sono venuto a chiedervi e poi vi spiegherò l'argomento di questa tragedia corrugate la fronte e perché mai perché ho detto che sarà una tragedia beh sono un dio e posso trasformarla se lo volete della tragedia farò una commedia e senza cambiare una parola vi va o non vi va che sciocco come se non lo sapessi io che sono un dio che volete così le vostre idee sulla questione le ho sul palmo della mano ecco farò che sia qualcosa di misto che sia una una tragica commedia tutta quanta commedia no non mi par giusto dato che c'entrano niente meno che dei e regnanti e allora beh dato che c'entra anche uno schiavo farò che sia una tragica commedia come vi dicevo immaginate che sia notte una lunga notte e possiamo farlo grazie a lei una quindi esiste qualcuno di più figo di me di più coraggioso di me non parlo di questi due parlo di me che poi conoscendo le abitudini di certi giovinastri durante la notte camminare a servire il suo padrone e cosa dovrei fare se la polizia dovesse trovarmi che dovrei fare uscire il gladio non ce l'ha un gladio sicuramente mi butterebbero in prigione e poi il giorno dopo mi fustigherebbero ti sembra giusto? beh sì allora sembra giusto sembra molto giusto ma non è finito la vita non è così semplice quando sei sai no il servo di un padrone ricco perché lui è un iscrivizzo chiaramente mi sembra che sia realizzabile ma non capisce che la vita è dura e non funziona così quindi però manda lui il suo servo di notte perché giustamente non può aspettare il giorno ma che ti pare saremmo troppo civili manda il servo a servirlo devo correre devo correre per il mio padrone il servo ricco il servo povero mi piacerebbe ricco è il padrone povero è il ricco vedete non riesco più a capire neanche che cosa sia che è vero che cosa sia vinto non è possibile andiamo durante la notte è da tre giorni che non dormo ma chi è quel tipo che sta davanti alla casa a quest'ora di notte non mi piace mai visto un tifone così mi sorge un dubbio che voglia rifarmi nuovo il mantello l'uomo c'ha sifa adesso lo prendo per il bavero i denti mi prudono i denti sono fritto questo qua mi riserva un'accoglienza pugnace certo è un'anima buona il mio padrone vuole che sia sveglio e lui mi farà dormire suon di sverle sono morto morto e sepolto Dio mi salvi guarda che muscoli che spalle ora gli parlo bene così mi sente e gli cresce la fluica avanti pugni miei purtroppo tempo che non date il foraggio alla mia pancia quant'è un secolo che ieri ne avete mandati quattro a fare la nanna a nudi e crudi povero me qui mi cambio il nome quinto invece di sosia dice che ne ha già messi quattro a dormire che tocchi a me di far crescere il numero lo dico e lo voglio ecco che fa? si aggiusta la veste si prepara eh no mica me la scampa lui chi? chiunque si avvicina si abbuffa di botte abbuffarsi? a quest'ora poi ho già cenato io se è la per chi ha fame la tua cena però che stazza questo pugno eh niente male sta pesando il suo pugno sono fritto e se? e se lo accarezzassi tanto da farlo addormentare? oh mi faresti un piacere sono tre notti filate che non riesco a chiudere un occhio no 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 tutto sbagliato se gli sgancio un gancio sulla guancia mica può essere uno sguincio eh no il mio pugno dove arriva deve cambiare i connotati ma cosa vuole farmi la plastica facciale? basta che lo centri io e flash la sua faccia si sfascia giuro che sta pensando di ridurmi come uno spezzatino via via da questo squartatore se mi ha visto sono un uomo morto ma bene eccolo che viene qui da me che fifa mi sento tutto di ghiaccio se qualcuno mi chiede dove sono non lo so più non mi posso neanche muovere per colpa della paura povero me che brutta fine per gli ordini del padrone e per sosia però però se gli vado incontro a Muso Duro e gli parlo può darsi che mi prenda per un fusto e che tenga giù le sue manacce sei libero o schiavo? allora sei libero o schiavo? come mi pare ah sì? proprio così tu sei pelle da frustate pura menzogna la tua ci penso io adesso a farti sputare la verità e che bisogno c'è? posso saperlo allora? di dove vieni e dove vai e di chi sei? vado là sono il servo del mio padrone e adesso ne sai di più? io adesso ti chiamardo quella linguaccia carogna tu vuoi proibirmi di entrare? ma perché? casa tua? te l'ho detto no? chi è il tuo padrone? il generalissimo tebano anfitrione sposo di Alcmena cosa vai dicendo? e tu come ti chiami? a tebe mi chiamavano sosia bugie sempre bugie hai il coraggio di dire che sei sosia quando sosia sono io sono morto morto? vedrai quello che ti spetta di chi sei ora? tuo tuo son mi hai acquistato son di pugni aiuto cittadini di tebe ridi anche razza di boia avanti confessa perché sei venuto? perché tu perché tu avessi qualcuno da pestare e di chi sei? di alfitrione l'ha detto e sono sosia sono io quel sosia che poc'anzi dicevi di essere tu ti prego posso parlarti in santa pace senza paura di buscarle? se hai qualcosa da dirmi facciamo un piccolo armistizio parlerò soltanto a pace fatta dato che tu beh picchi più forte no avanti parla non ti toccherò posso fidarmi? devi e se mi bidoni e l'ira di mercurio ricada su sosia dammi retta adesso che ho licenza di parlare ti dirò che sono sosia servo di anfitrione ricominci ho fatto la pace e concluso il trattato dico la verità adesso le buschi fa come ti pare e come ti piace già che sei il più forte ma comunque tu faccia io non taccerò la verità tu oggi non mi impedirai di essere sosia e tu non mi impedirai di esserlo io sì quindi sosia ce n'è solo uno che sono io io che me ne sono andata alla guerra con anfitrione quest'uomo è malato nella testa malato sarai tu accidenti non sono io sosia il servo di anfitrione non è non so non è arrivata qui stanotte dal porto persico la nostra nave che mi ha trasportato non mi ha mandato qua il mio padrone e adesso non sono io davanti alla nostra casa non ho in mano una lanterna non parlo non sono sveglio quest'uomo non mi ha pensato poco fa mi ha picchiato accidenti le macelle mi fanno ancora male povero me e allora perché dovrei avere dei dubbi e perché non entro in casa nostra come? casa vostra? proprio così frottole poi raccontato un sacco di frottole sono io il sosia di anfitrione io la nostra nave è saltata a stranotte dal porto persico abbiamo espugnato la città sulla quale Pterela regnava abbiamo catturato con forza della forza delle armi la legione dei teleboli anfitrione in persona ha mozzato la testa di Pterela nel vivo della battaglia non credo alle mie orecchie quando sento dire queste cose non c'è dubbio ricorda tutto e racconta bene ma tu dimmi una cosa ad anfitrione cosa gli hanno regalato i teleboli? la coppa d'oro da cui era solito e beri in rette l'ha detto e adesso dov'è la coppa? in un cofanetto che reca il sigillo di anfitrione e il sigillo com'è? solo levante con quadriglia ma tu vuoi prendermi in castagna razza di boia? mi frega con le sue risposte poi mi devo cercare un altro nome chissà da dove li ha viste certe cose però io adesso lo metto a posto perché io dentro la tenda ci stavo da solo e nessuno ha veduto quel che ho fatto e nessuno potrà mai raccontarlo se tu sei sosia dimmi un po' che cosa facevi nella tenda mentre le legioni si scannavano se dici ciò ta c'era per sempre c'era un orcio di vino io ne ho riempito un boccale ha cominciato bene me lo sono scolato schietto come mamma l'aveva fatto eh sì me lo sono scolato quel buon vino però è strano che si fosse nascosto nel boccale e adesso l'ho dimostrato o no che non sei sosia tu dici che io non sono io e come potrei non dirlo se sosia sono io giuro su giove che sono io e non dico il falso e io giuro su mercurio che giove non ti crede si fida più di me che dei tuoi giuramenti e allora se io non sono sosia chi sono te lo domando quando non vorrà più essere sosia sì lo oppure tu ma mentre sono io sosia tu le buschi se non ti togli di mezzo ora bussa la porta e dove vai a casa tu la farei franca siano soltanto se salterai sulla quadriga di giove taci e tagliere la corda e dai non glielo posso dire alla mia padrona quello che il padrone mi ha comandato ha dato tutto quello che vuoi alla mia tu non ci arrivi garantito e bada che se perde la pazienza ti porti via un lombifragio meglio tagliare la corda o dei mortali vi prego dov'è che sono morto dov'è che mi sono trasformato dov'è che l'ho perduta la mia persona il mio me può essere che io l'abbia lasciato laggiù che io mi sia dimenticato di sicuro proprio di sicuro c'è che questo qua ha tutto l'aspetto che una volta era mio da vivo mi tocca a quello che da morto non avrò l'onore di un ritratto adesso vado al porto e gli racconto tutto al mio padrone sempre che anche lui non mi dica che non mi riconosce magari magari il giovane mi facesse la grazia me la toglierei zigzag a questa zazzara da schiavo e metterai il berretto da uomo libero il secondo è un'unità di tempo determina quanto dura la discesa quanto è dura la salita però attento perché il secondo è bastardo il muto bociardo l'ora invece è come una gara e la felicità ha una terribile voglia di vincere corre 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 la felicità corre tanto non la vedo più fottuta felicità mi nasci solo con tristezza tristezza che di vincere non vuole saperne niente cammina cammina la tristezza cammina ma è detto orologio che segni ore minuti e secondi è lui che decide quanto dura l'odio quanto dura una vita quanto dura quell'attimo che chiamiamo amore quanto è dura l'attesa non è piccola cosa né il corso della vita il piacere il piacere se lo confrontiamo al dolore così per i mortali stabilite così piace agli dei che il dolore tenga dietro al piacere come un compagno inseparabile se ti capita un briciolo di felicità subito un dispiacere magari più grande succede a me qui nella mia casa e lo imparo a me e steso sì ho goduto un po' acqua di felicità quando mi era dato di vederlo il mio sposo il mio sposo ma soltanto per una notte è ora è partito all'improvviso lasciandomi prima dell'alba e ora mi sento abbandonata perché lui mi ha mentato e lui siamo sopra ogni cosa sopra ogni cosa ogni cosa ogni sì cosa se li metto a confronto dal piacere del suo arrivo e il dolore della sua partenza io trovo che è il dolore che la vince ma almeno una cosa mi ha sconfitto in amica l'avete fatto a carico di gloria sì è un pensiero che mi consola sia pure lontano perché faccio l'interno tra gli onori e io la sosterrò e la sopporterò con coraggio con permetta perché mi sia concesso il compenso e la sopporterò con coraggio con permetta perché mi sia concesso il compenso che il mio scuolo sia preparato l'unicipale della guerra mi basterà mi basterà mi basterà mi basterà il valore è il premio più grande il valore è il premio più grande libertà sicurezza vita famiglia e ricchezza padre e figli sono difesi e città il valore ha in sé ogni bene ogni bene dell'uomo più avvi un valore mi basterà mi basterà non te l'ho data no e neanche te l'ho parlato l'intenzione di offrirtela ce l'avevo sì e ancora ce l'ho ma dimmi chi ti ha raccontato tutto questo da te l'ho sentito dalle tue mani ho avuto la coppa fermati per l'amor di dio fermati sosia sono sbalordito sono sbalordito che lei sappia che laggiù mi è andata una coppa aurea a meno che a meno che non gliela abbia hai detto tu quando sei arrivato poco fa io giuro che non ne ho parlato non ho vista se non goldè e che accidenti è stato vuoi che la faccia portare la coppa certo che lo voglio subito tessa va là e porta qui la coppa che mio marito mi ha regalato oggi vieni vicino sosia se la coppa ce l'ha lei è il miracolo più mirabolante e tu ci crei coppa è qui dentro in questo caso lo ho segnato con il tuo sigillo è intatto il sigillo e guardalo si si è a posto proprio come l'ho impresso io cosa aspetti allora a farla benedire come un'imbasata accidenti bisogna farlo è strapiena di spiriti lei accidenti ci servono altre parole qui c'è la coppa eccola guarda tu che ne di anche l'evidenza ora ti sbugiardo dinanzi a tutti e o non è questa la coppa che ti hanno regalato grandissimo giove cosa vedo è proprio questa sosia sono morto verbacqua o questa fa il giochi di prestigio o la coppa deve essere nel cofano andate a vedere la coppa vai presto 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 apri il cofano perché dovrei aprirlo io è sigillato bene nel samo cavallo ti è partorito un antifitrione e io ho partorito un'altra sosia se la coppa ha partorito un'altra coppa significa che ci siamo tutti raddoppiati bisogna aprire e guardare guarda bene come è il sigillo che dopo non ti venga l'idea di accusarmi apri subito perché questa qui con le sue chiacchiere vuol farci impazzire ma da dove può venire la coppa se non da te che me l'hai regalata qui bisogna che io ci veda chiaro oh giove grandissimo giove che ti prende se la coppa non c'è nessuna coppa se la coppa non salta fuori a te a te ti aspetta la tortura ma è qui non la vedete chi te l'ha data chi chi mi sta interrogando mi sta sfottendo eh dalla nove te ne sei venuto di nascosto e mi hai preceduto per una via diversa hai tolto la colpa dal cofano e l'hai data a lei non è vero poi di nascosto hai rimesso il sigillo nel cofano e tu vuoi darle corda nelle sue mattane tu sosia che noi siamo venuti qui ieri certo che si sei giunto mi hai salutato e io te e ti ho dato un bacio quel bacio come principio proprio non mi va continua e poi si sei lavato e poi la tavola di bene è meglio continuamente rogarla tu non impicciarti e tu va avanti la cena fu servita ce l'ammo insieme io al tuo fianco sullo stesso triclinio sullo stesso ah questa cena non mi sfagiò e poi cosa facemmo dopo la cena dicessi che avessi sonno la cena la tavola venne sparicchiata e ce ne andammo a dormire e tu dove hai dormito nel nostro letto nella nostra camera con te tu mi fai morire cosa ti succede mi ha ucciso lei adesso ma scusami perché perché mentre ero via la sua virtù è caduta nel fango nel nome degli dei marito mio perché devo sentire queste brutte cose dalla tua bocca io sarei tuo marito falsa non dire cose false se da marito hai diventato moglie quell'affare si complica che cosa ho fatto per meritarmi queste brutte cose tu proclami ai quattroventi le tue prudezze e poi mi chiedi in cosa hai peccato in cosa ho peccato contro evitasse io io tua sposa sono stata con te tu con me impudenza delle impudenze se l'hai perso il senso del putore fattelo almeno prestare tu stai insinuando qualcosa che alla mia famiglia non si addice siamo i accusi di impudicizia le tue accuse non valgono nulla oh dei mortali tu Sosi almeno tu mi conosci più o meno sì io ieri ho cenato o no sulla nave nel porto persiano ce li ho anche i testimoni per confermare le mie parole io non so cosa dire di questo imbroglio a meno che tu non sia un altro anfitrione che durante la tua assenza si prenda cura degli affari tuoi e sempre in tua assenza faccia la parte tua mi meraviglia che ci sia un altro anfitrione a Sosia ma fa ancora più meraviglia che ci sia ancora un altro anfitrione qualche incantatore me l'ha stregata questa donna nel nome del sommo Dio è giuna l'idea della famiglia che io venero e temo soprattutto io faccio solenne giuramento nessun mortale mai mai al di fuori di te ha toccato il mio corpo con il suo si da farmi impudica magari fosse vero il vero l'ho detto ma è inutile se non vuoi credermi sei donna giuri facilmente si facilmente perché non ho colpe posso difendermi a testa alta e parlare senza paura senza paura anche troppo quanto si adicione a donna onesta onesta si a parole la mia dote io dico non è quella che tutti chiamano dote ma il pudore la calcità la continenza il timore per gli dèi l'amore per i coniugi l'aiuto con i familiari l'ubbidienza al marito e l'aiuto a chi lo mette e le ammesti accidenti se dice la verità questa è la perfezione delle donne mi hai rigirato così bene che non so più chi sono sei anfitrione di sicuro ma ti enti stretto eh perché già quando siamo in casa qui gli uomini vengono scambiati donna non è mia intenzione che questo affare resti in sostegno è proprio quello che desidero ah sì allora rispondimi se è dalla nave porto qui naucrate per il tuo parente e se è lui che è viaggiato meco ti sfuggiarda in tutto e per tutto che cosa ti succede a queste obiezioni se ti venisco con il riposo ci ha mancato nessuna obiezione sosia falli entrare io vado a prendere naucrate ora siamo a sogno potresti dirmi la verità quella è vera c'è un altro sosia uguale a me vattene servo degno del suo padrone se me lo comandi tu ne vado per gli dèi è troppo straordinario che a mio marito sia saltato in mente di accusarmi così falsamente di un'azione così malvagia comunque sia presto conoscerò la verità tramite naucrate che è parente mio mi chiederete perché vi ho radunato qui oggi signori e signore della giuria ebbene io sono qui oggi per accusare un imputato molto particolare lo specchio ok perché vi sto portando uno specchio perché io sono convinto che questo oggetto originato dal demonio sia la causa della maggior parte se non di tutti i mali che affligge l'uomo moderno se no vi agli ho elencati in un breve punto allora punto numero uno quello specchio riflette la parte peggiore delle persone le persone quando si guardano dentro di noi erano brutte fuori posto sapete quante persone che si troppo sono morte si hanno tolto la loro vita a casa di questo maledettissimo oggetto lo sapete ma non solo lo specchio distorce la realtà se qualcuno infatti alzerà la mano destra lo specchio alzerà la mano sinistra di viceversa insomma non si smette il bene come si può fidare di un oggetto così se non dice nemmeno la verità altro punto fondamentale però lo specchio porta sfortuna è risaputo che rompere o minimamente danneggiare uno specchio da di sette anni di sfiga di sfiga nera io effettivamente ho incontrato gente importantissima ricchissima di successo che ha graffiato semplicemente qualche specchio e si è ritrovata nell'astrico si è ritrovata nell'astrico dannazione non è possibile eh? ma no è tutta colpa sua ed è per questo signore e signori della giuria che io voglio che tutti gli specchi a partire da questo vengano distorotti ma come osi che ha parlato? io colunniatore della peggior specie no tutto quello che ho detto è solo la verità sono bugiglia creata da voi voi non volete capire tutte le vostre accuse rivolte contro me sono solo il risultato della vostra dannatissima insicurezza anzi della vostra pigrezza è facile insultarvi no? dopo tutto oggetto inanimato che non può ribellarsi che non può difendersi è ora che voi capiate tutti i vostri problemi partono da voi e finiscono con voi un giorno mi chiesero descrivi te stessa era una domanda semplice e poi non sapevo come rispondere mi cominciai a guardare allo specchio mi chiesi ma chi sono io davvero? c'è qualcosa in fondo oltre a questo viso un'identità l'errore più grande che feci fu non vedere com'ero io davvero ma vedere come pensavano gli altri che fossi e così avevo paura di apparire solo perché pensavo solamente ai pensieri altrui e odiavo lo specchio non lo volevo più vedere però un giorno mi riguardai e dissi sono davvero tutti questi pensieri? no lo specchio può riprodurre la verità in fondo come siamo davvero i nostri occhi non sono sempre falsi come noi crediamo possono dire tanto e io oggi ho capito che i miei pensieri erano solo una versione falsa di me stessa e ho imparato a non odiare più gli altri ma a vederli come i miei uguali di pezzo che ore sono? che importanza ha? il tempo dell'attesa non è uguale al tempo comune e non si misura in minuti secondi ore ma battiti sospiri lamenti lacrime l'attesa ti avvolge ti circonda ti consona ti soffoca ti affoga l'attesa l'attesa è un mare senza fine dal quale non riesce ad uscire chi stava aspettando? un fratello un padre un figlio un marito non importa l'unica cosa che conta è l'attesa 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 e i miei pensieri impazziti e il battito del mio cuore e il momento in cui vedrò la sua ombra in strada i suoi passi sulle scale la sua mano sulla maniglia il suo sorriso da ebete e tutte le cazzate che mi racconta tutte le sere e allora finalmente sarà pace 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 no le persone come me non conoscono pace rispondiamo ad una sola preghiera seguiamo un unico mantra ti prego torna ti prego torna ti prego torna ti prego torna l'unica cosa che conta è l'attesa l'unica cosa che conta sono io è l'attesa giove e adesso devo parlare con Alcmena che logicamente mi crede il suo marito non posso rimanere in questa casa essere accusata in tal modo da adulterio di disonare di vergogna da mio marito e gli grida che ciò che è successo non è mai successo mi accusa che sono successe accadute cose che non sono mai accadute e crede che io prenderò le cose con indifferenza no per polluce non lo farò non tollererò da essere accusata in torto da adulterio o lo lascerò o dovrà darmi soddisfazione giurandomi per giunta che gli spiace d'aver proferito degli insulti contro un innocente beh bisogna che io faccia quello che chiede se voglio che mi riprenda tra le sue braccia e con l'amore logicamente quello che ho fatto non è mica piaciuto da l'anfitrione a lei povera innocente ha dato solo dispiacere eccolo qua quello che accusa un innocente da adulterio di vergogna sì beh io vorrei parlare con te modini eh perché mi volgi le spalle è il mio carattere ho sempre odiato di guardare in faccia i miei nemici i nemici ma su via proprio così parlo seriamente a meno che tu non voglia accusarmi di aver mentito anche in questo oh sei troppo facile dire puoi tenere su le mani a meno che ovviamente se tu non fossi in testa e ragionassi un poco non ti metteresti a discorrere né per scorso né sul serio con quale che tu giudichi e proclami disonesta oppure vuol dire che tu sei il più stupido tra gli stupidi quello che ho detto non l'ho pensato davvero non è che tu lo sia figurarsi era uno scherzo una burla sì quello che ho detto l'ho detto per metterti alla prova per vedere come avresti reagito cosa avresti fatto cosa avresti detto sì era tutto uno scherzo e poi chiedermi a questa fase a cui perché non conduci qua il mio parente nauncrate allora non avevi detto poco fa che l'avresti condotto qui per dimostrare che prima non eri venuto sì ecco beh quello che dici per scherzo non bisogna prenderlo troppo sul tragico tu sai io quanto il mio cuore mi ha sofferto prego ti supplico perdonami scusa mi allena io le penciurie le ho rese vane con la mia virtù ora perché mi sono tenuta lontana d'azioni disoneste voglio tenermi lontana da parole disoneste addio tieni i tuoi beni e ridami i miei cosa non mi ha non puoi farmi nemmeno accompagnare su via ma parli da senno se non vuoi mi ne entro da sola ci sarà la dia della pudicizia ad accompagnarmi almeno rimani ti prego ti scongiuro giuro su tutto quello che vuoi ok o sommo giove scatena la tua ira sul tuo anfitrione se non dico il vero no per giove che gli sia proprio sempre sì così sia perché io ho giurato il vero in ansia a te ora non sei più arrabbiata vero? fai bene perché cose come queste succedono nella vita degli uomini c'è il momento di pace e c'è il momento di dolore poi logicamente se viene un litigio poi viene la pace tra gli sposi quando succedono cose del genere poi torna la concordia e l'amore sai riesce raddoppiato avresti prima dovuto evitare tali parole però dato che me ne fai le scuse devo accettare fammi preparare i basi sacri eh voglio addempiere i voti che ho fatto al campo se fossi va ritornato fanno i falvo sarà mia cura non posso resistere qui dentro accusata in questo modo dal mio marito ad essere una donna disonesta un'adulta e una svergognata i fatti accaduti lui lui strepica che non sono mai accaduti mi imbravano infatti mai accaduti da me mai mai e e crede che io possa rimanere indifferente ma non sarà così non mi lascerò incolpare falsamente di uno scandalo piuttosto lo abbandono si lo abbandono oppure oppure mi dia soddisfazione io oltre mi giuri che mi spiace mi spiace di avermi insultato è l'indole della mia indole i nemici mi è sempre spiaciuto guardarli in faccia è così dico il vero meno che tu tu non voglio insinuare che sia anche questa una menzogna giù le mani come una donna che giudichi e proclami svergognata non ti ci dovresti intrattenere né per gioco né sul sei a meno di non essere il sonno degli idioti non essere in collera io quelle tue parole le ho confutate con la mia virtù con la mia virtù adesso come mi astenni da azioni sconvenienti da parole da parole sconvenienti voglio rifugire addio tieniti tu e ve li restituisci i miei mi fai accompagnare da qualcuno da l'ordine o me ne vado da solo prendendo accompagna la pucce strano cosa sta tramando da solo fra sé e sé in segreto salve sono qui per dare a voi e ai vostri cari il mio aiuto ciò che è stato e ciò che sarà lo deciderò io perché perché io sono Giove e chi altro se non è il corpo di Flavio chi è Flavio non vi deve importare ho usato il corpo di Alcmena e con l'amplesso l'ho resa gravida di un figlio anche tu sì anche tu quando sei partito per la guerra l'hai resa gravida e con un solo parto dare a vita a due figli di cui uno di cui uno baciato dal mio feme sarà più grande di tutti un eroe ma di Alcmena lasciata in pace non merita di essere accusata per l'accaduto poiché l'ha costretta il mio potere e ora vi saluto ritorno in terra poimprovviso vicinissimo e potente il tuono a quel fregore ciascuno la dovera si abatte al suolo e in quell'altissima voce qualcuno grida Alcmena non avere paura il tuo aiuto è qui a te che ai tuoi pari aggiunge un propizio abitatore del cielo sorgete disse voi che al mio segnale luminoso siete stramazzati al suolo come ero caduta io vi tiro su pensando che la casa fosse in creda alle fiamme tanto bagli ore c'era intorno ma ecco che Alcmena mi chiama a gran voce e anche questo accresce il mio terrore ma la paura per la mia signora è più forte e allora corro da lei per vedere che cosa voglio cosa vedo che ha partorito due gemelli nessuno di noi si era accorto che è stata partorena nessuno l'aveva previsto così pare per Giove forse forse sono io Alcmena la protagonista dell'intera vicenda Alcmena che attende Alcmena che sogna il ritorno del marito Alcmena che è inquieta tanti volti di una donna riflessi come in uno specchio ma forse Alcmena è solo l'amore umano mortale è finito sì ma così infinito nella sua bellezza è forse così bello proprio perché è debole è indifeso è fragile no anche gli dèi lo invidiano e sembra strano vero questo amore che non è immortale o che noia se lo fosse no è ha il fascino del tempo e di ciò che nel tempo va afferrato è goduto perché appena ti volti ed è già svanito e ha il fascino della terra perché bisogna no si deve rimanere sulla terra la gente di me di Alcmena ha un'immagine contorta vede una donna una sposa fedele che ha avuto l'onore dell'amore e dell'incontro con un dio fedele 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 sì fedele ma a cosa al suo ruolo al suo prestigio alla sua reputazione alla sua storia al suo mito no no signori spettatori io dico alla sua umanità alla sua casa alle sue abitudini ai suoi desideri anche se non sempre si avverano e e al suo corpo ai suoi vestiti e alle sue rughe perché prima o poi arriveranno alla sua vita e alla sua morte ed arriverà anche questo un giorno sì a voi spettatori signori e signore vorrei lasciarvi con un grande punto di domanda Alcmena è la donna abbandonata e sola che deve aspettare il ritorno del marito dell'uomo quello vero oppure oppure vuole aspettare coraggiosamente strenuamente come un soldato in battaglia una battaglia che però si combatte con tutta altre armi a voi gentili spettatori se ne avete voglia lascia la risposta di domanda complimenti per il vostro lavoro passiamo adesso la parola a Salvatore Guadagnolo che commenterà il lavoro con le docenti referenti del laboratorio teatrale grazie per la vostra performance ora va a parlare di Salvatore Guadagnolo che va a parlare della vostra performance con la scuola grazie 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 complimenti a voi comunque c'è anche Enzo D'Arco se vuoi intervenire anche tu allora complimenti i ragazzi del liceo a Tony Contartese che ti ha il piacere di mettere in un'altra rassegna e di apprezzare i suoi lavori allora brevissima ricerata è vero perché credo siamo in ritardo sulla tabella di marcia però non vorrei perdermi e Tony me ne sarà credo sarà d'accordo con me di lasciare un attimo la parola ai ragazzi nel senso che volevo un po' sapere insomma avrei e vorrei dire tante cose di quello che ho visto che ho visto due volte anzi tre adesso l'ho rivisto per la terza volta sono delle cose molto interessanti però ecco una prima così domanda che volevo fare ai ragazzi come nasce chiaramente l'idea di questo anfitrione particolare con con innesti testuali particolari ecco diversi insomma altro con queste riflessioni credo anche credo vostra insomma quindi se c'è qualche ragazzo che se mi vuole rispondere la storia di queste idee in quest'anno chiaramente particolare no al di là delle restrizioni con tutte le restrizioni non so se sono stato chiaro insomma raccontare un po' come è nato questo percorso c'è qualche ragazzo che mi vuole rispondere? sì ce ne sono tre ne sono tre vediamo ah c'è anche la professoressa giusto? sì sì allora c'è qualche ragazzo se no vuole rispondere anche Tonio la propria preferirei se parlassero di ragazzi chi sono? così li chiamiamo allora c'è Francesco c'è Maria Sofia c'è Beatrice allora ecco vedo Beatrice accesa con la videocamera accesa mi senti Beatrice vuoi dire qualcosa? sì questo progetto è nato quest'anno appunto di pandemia è stato interessante provare a fare anche a continuare questo lavoro anche online attraverso improvvisazioni e sono uscite delle idee magari ispirate anche a qualcosa di moderno alla situazione attuale che hanno permesso poi di ricavare interessanti improvvisazioni quali sono state queste improvvisazioni per esempio? ma per esempio ci sono state improvvisazioni sullo specchio oppure sul tema libero schiavo e poi sul tema sfauto dell'attesa di Alcmena esatto no personalmente mi ha colpito molto questo ragionamento sull'attesa per questo mi incuriosiva sapere da dove nasce questa riflessione anche molto matura profonda ecco non vorrei dire matura profonda da parte vostra di questo di questa attesa insomma è nata da una discussione collettiva è nata da un ragionamento qualcuno ha portato un pensiero ecco come nasce una cosa del genere posso capire non so l'abilità e la competenza di Tony nel nel renderlo dentro tutto l'equilibrio drammaturgico no della storia però ecco mi interessava proprio il tema come è stato cioè perché si si parla di anfitreone però poi si parla di attesa siete timidi ragazzi non sembravate Francesco si se posso permettere di rispondere buonasera a tutti e dunque questa improvvisazione mi attiva dal tema dell'attesa da Alcman appunto dal monologo di Alcman dell'anfitrione e appunto abbiamo approfondito anche delle abbiamo fatto degli excursus sulla cultura greca e latina con anche la prof Ferrari e abbiamo parlato anche con Tony di altre donne e di altre magari tragedie o commedie greche con lo stesso diciamo sentimento e la stessa situazione di Alcman appunto quella dell'attesa e appunto principalmente le ragazze del nostro gruppo si sono occupate di trattare un'improvvisazione su questo tema appunto ci sono state davvero tantissime improvvisazioni e quello nel video diciamo ve ne è un rassunto diciamo ascoltami che cos'è per te questa attesa cosa ha significato ragionare sull'attesa da parte delle tue compagnie e dei tuoi compagni in questo anche in questo lavoro in questo lavoro non intendo solo l'anfitrione in questa modalità mascherine non il teatro ma riprese eccetera cosa vuol dire attendere cosa? Magari questo tema dell'attesa vuol dire anche attendere un momento un periodo di nuovo diciamo la cosiddetta normalità quindi più corsi e lezioni a distanza davanti a un pc dove proprio l'approccio con il dispositivo con cui si collega è diverso dal recitare insieme c'è tutto un processo della regia che un attore fa della sua improvvisazione differente e ovviamente appunto questo tema dell'attesa può avere tanti sbocchi e ovviamente credo che appunto questo tema dell'attesa si possa anche ricollegare a questo periodo che stiamo vivendo un'attesa verso quello che vogliamo tutti ritornare alla nostra normalità ritornare a fare in questo caso teatro in presenza e questa è solo una delle tante interpretazioni che si possono dare a questo tema dell'attesa a parte proprio la comedia dell'epidione ma Francesco Beatrice non so chi è l'altra che è presente cosa avete voluto dire con questo spettacolo voi se avete voluto dire qualcosa magari no chi mi risponde Beatrice qualcun altro chi è Maria Sofia Maria Sofia c'è anche non vedo allora Maria Sofia mi vuoi rispondere tu sicuramente questa è stata un'opportunità per noi innanzitutto per provarci durante la pandemia nel senso che secondo me il teatro è stato un'occasione per poter comunque vedersi nonostante la pandemia intrecciare rapporti con altri ragazzi e condividere il punto di vista perché ci siamo confrontati più e più volte sui temi che abbiamo affrontato nel video e quindi anche con i temi affrontati grazie all'anfitrione abbiamo parlato di offesa e ci siamo quindi anche confrontati tra di noi abbiamo potuto dire la nostra opinione è vero Maria Sofia è vero infatti io credo che come devo dire non era magari qualcuno era il primo anno che faceva teatro credo qualcun altro già forse i due anni fa perché l'anno scorso l'ha fatto e chi l'ha fatto sa che comunque un modo di lavorare credo che sia anche quello di Tony è di a un certo punto aprire la discussione su un tema e quindi i ragazzi poi dicono la loro eccetera in questa situazione almeno io ho avvertito in questa parte diciamo scritta da voi come ha detto Francesco viene fuori da da improvvisazioni che poi curate insomma in una maniera più teatrale insomma o più scritte in una in un contesto drammaturgico sono state esposte da voi credo che queste considerazioni siano state più forti in questo momento che in un momento normale non di cosiddetto normale di attività di laboratorio teatrale quindi non è facile insomma far venire fuori una situazione che è una situazione di disagio e portarla fuori insomma in questa maniera quindi io vi ringrazio di questo di questa verità che ci avete donato approfittando appunto dell'anfitrione parliamo di attesa e parliamo della nostra vostra attesa insomma in quella maniera poi realizzata bene un'ultima domanda poi non so se qualcun altro vuole intervenire il luogo dove è stata diciamo girata tutta la scena no questo esterno che però non è un esterno perché è ancora a scuola no lì quindi questo esterno interno che era questo a volte parlare no nel non ricordo il personaggio che dialogava con le immagini di cioè di insomma interlocuiva con l'immagine del Bruce Brothers no di ecco questo questo po come è stato visto quello è un posto il giardino della scuola che voi magari ecco vi andate a nascondere no però in tempi normali state là fuori non volete rientrare uffa prof già dobbiamo rientrare quando suona la campanella ci passate di di corsa perché non vedete l'ora di uscire giustamente eh per carità invece l'avete proprio vissuto no come l'avete vissuto questo posto no perché è molto importante no il luogo non un teatro non una sala teatrale eccetera ma credo anche per chiaramente esigenze di restrizione dovute al covid all'aperto però non un aperto qualsiasi un aperto che è ancora scuola diciamo brutto ma brutto non perché la vostra scuola è brutta diciamo le scuole non sono cioè non è la bellissima cattedrale di moda insomma cioè la scuola è un edificio già di per sé insomma no anonimo ecco non voglio dire brutto insomma come scuola anche se l'edificio voglio dire non l'ho visto ma è un bel edificio non vorrei dire però ecco voi l'avete ecco anonimo le scale antigendio sono le scale sono un oggetto anonimo eppure l'avete reso vivo chiaramente io credo che ci sia stato il suggerimento dell'adulto della prof di Tony eccetera ma voi come l'avete vissuto questo esterno valorizzando anche un secchio di immondizia per esempio insomma Beatrice mi vuoi dire tu è stato interessante come a scuola chi vuole rispondere però vai Beatrice ma secondo me è stato interessante il passaggio dal online al giardino perché c'è stato proprio un adattamento e è stato proprio interessante come lo sfruttamento anche di ciò che avevamo a disposizione come appunto il cestino o altri oggetti sono trasformati in un modo di arricchire la scena e per esempio di rendere meglio un'immagine te che sei trovata bene a girare lì a me è piaciuto perché non ho avuto altre esperienze di teatro perché questo era il mio primo anno quindi non posso fare un confronto fra una modalità non a me ho avuto un vero teatro però è interessante questa esperienza e anche per esempio abbiamo sfruttato ricercato proprio il luogo adatto per girare ogni scena bene Francesco vuoi aggiungere qualcosa Maria Sofia io vorrei dire che secondo me abbiamo proprio imparato a sfruttare un luogo che apparentemente può sembrare banale ma abbiamo dovuto comunque ragionare e capire se fosse più adatto ad esempio girare una scena sulla scala di incendio oppure sulla scala di cemento oppure vicino ad un albero quindi abbiamo dovuto proprio ragionare e sfruttare lo spazio che avevamo a disposizione che purtroppo era il giardino della scuola a causa del covid avete reso anche bello voi avete fatto una cosa che io solitamente ma non solo in tempo di pandemia in genere quando lavoro con i ragazzi avete questa per me orrenda abitudine che invece di portare il copione quando si porta il copione prima di lasciarlo diceva il copione dov'è? no ce l'ho è sul telefonino che è una cosa che io da brutto sauro detesto ma capisco invece in questo contesto era anche interessante anche divertente insomma vedere Zeus o qualcun altro con il personaggio il tuo solitimano quindi aprire un po' la porta sul vostro laboratorio grazie ragazzi di questa ventata di speranza salvatore volevo dire solo due cose una piccola cosa se Tony e la prof o qualcuno vuole intervenire sono qui no mi è piaciuto molto che hai chiesto ai ragazzi perché anche io ero curioso di sapere cosa dicessero i ragazzi perché poveretti abbiamo improvvisato davvero tutto perché abbiamo avuto quattro giorni di lavoro all'aperto perché le porte si sono aperte a maggio e quindi il lavoro andava fatto andava portato e quindi ci siamo inventati tutti sul momento e per fortuna è venuto un ragazzo dallo scorso anno con una telecamera bella e ha fatto le riprese perché altrimenti avremmo avuto anche delle riprese non eccezionali che si è dedicato e si è messo lì e ha ripreso e c'erano tante possibilità veramente tante ne potevano uscire sarebbe stata una cosa da sperimentare però non era il caso anche perché quando siamo usciti volevamo stare a fare teatro noi non volevamo più fare l'anfitrione volevamo fare solo training perché c'era il bisogno di lavorare non di provare e di mettere e di pensare allo spettacolo lo spettacolo ormai non aveva più senso aveva senso stare e lavorare e conoscersi attraverso qualcosa che ci è mancato tutto l'anno poi calcoliamo che noi ci siamo abituati tutto l'anno a vederci ogni volta come io adesso sto vedendo me stesso mentre parlo cosa che mi chiede quando sei del vivo e questo per me era importante per loro cominciassero a staccarsi dal guardarsi ma dal sentire e quindi due giorni li abbiamo passati a fare training poi c'era Francesco che faceva Conte quindi prima di chiudere volevo che lui chiudesse alla Conte perché ci metteva sempre di buon umore e ci dava sempre buone notizie sul futuro quindi devo dire che intanto grazie a voi grazie a questo festival che Rita mi ha fatto conoscere di cui effettivamente non conoscevo e trovo strepitoso e chiudevo con le parole del preside Tarantino che intanto ha ringraziato la nostra scuola ma soprattutto ha fatto un teatro della sua scuola quello che ogni scuola dovrebbe fare del suo portile il teatro soprattutto di un liceo classico in questo caso anche linguistico dovrebbe creare un teatro noi abbiamo poi un Emilia Romagna teatro a fianco che dovrebbe appoggiare questo tipo di lavoro e di non farne una rassegna ma creare teatri in ogni angolo e questo è un peccato perché la vita del classico è intero che sia io come esperto che sia qualcun altro l'importante che si faccia questa è la cosa fondamentale quindi spero che sia d'auspicio questo giardino apparentemente estraneo al teatro che lo possa invece diventare come una cosa permanente perché diventerebbe affascinante sarebbe urbano un teatro veramente urbano anche anfitrione, medea, qualsiasi teatro classico potrebbe stanziare in maniera favolosa e straordinaria. E devo dire che comunque abbiamo avuto una professoressa in gambissima che non si è mai arresa, che è Rita Ferrari, che ha voluto assolutamente fare il teatro e quindi muoverlo e andare in presenza e portare un evento finale. Quindi Rita, grazie a te le ultime parole, però poi vorrei che chiedessimo con Conte. Sarò velocissima perché i ragazzi sono loro che dicono tutto. Allora io insegno da 30 anni latino e greco e io sogno un nuovo umanesimo, una parola che è stata detta in questi giorni, un nuovo umanesimo dove il teatro non sia un'attività extracurricolare, ma le lezioni di teatro si facciano in classe, al mattino, si hanno una disciplina. E io che insegno latino e greco le cosiddette lingue morte, mi piace vedere quando la competenza, tutte le competenze di cui si parlava, di cui si parla europee, diventano sapere agito. Io credo che latino e greco vincano la loro sfida se i ragazzi fanno diventare quello che sanno qualcosa di agito. L'eredità degli antichi, e chiudo con una frase molto bella di Nale, di un grande compositore, non è adorare le ceneri. Noi non dobbiamo adorare le ceneri del mondo antico, dobbiamo custodire il fuoco, un po' come Prometeo, custodirlo per il futuro. I ragazzi sono il nostro futuro e in questo futuro il teatro per me è una dimensione rinunciabile. e chiudo proprio con questo. Grazie, grazie prof. Non so se Enzo vuole dire qualcosa, io devo solo fare una chiusura. No, no, non aggiungo altro, anche perché non voglio rubare altro tempo ai prossimi eventi. Però era importante quello che tu hai fatto, provare ad ascoltare un po' dalla voce diretta dei ragazzi, le loro impressioni. Quindi per noi era importante anche capire questo loro incontro, con questo spazio che magari in altri momenti hanno vissuto diversamente e che invece grazie al teatro abbiamo capito che hanno avuto anche la possibilità di riscoprirlo, quello spazio, e magari di rivalutarlo. Quindi a maggior ragione, semmai ve ne fosse bisogno, o meno tra di noi, di capire l'importanza del teatro. Va bene, mi fermo qui. Grazie Enzo. Volevo solo dire a Toni che le cose che ha detto chiaramente sono giustissime, anche con azioni, usate la frase, politiche abbastanza importanti. Noi come Agita, vicino al Ministero, cerchiamo in tutti i modi di portare dai vari angoli dell'impero quello che è di valore e quello che è pregevole. Si tratta di rassegna o si tratta di scuole che portano avanti il percorso. Vi ricordo che la sottosegretaria del Ministero della Cultura è Natale Bergonzoni, che è proprio da delle nostre parti, che è una che in Emilia Romagna ha fatto tanto. Non so, però portare alla sua, ultimamente l'abbiamo incontrata, a parole come tanti politici ha detto delle cose interessanti, però so che l'Emilia Romagna ha fatto un buon lavoro. Perché non andare a bussare, non bussare, non elemosinare, bussare con forza anche agli uffici centrali e dire noi ci siamo e portiamo avanti un discorso da anni, con una storia che è storia e presente ma anche futuro. Quindi in bocca al lupo, qualsiasi cosa noi siamo sempre a disposizione. Francesco, fammi sentire questa cosa, dai, per la chiusura. Dunque va bene, posso chiudere io con questo appunto. Che devo dire? Diciamo che è stato, a partecipare a questo corso, ho partecipato a diverse lezioni, io no, perché mi interessavo anche di teatro, è stato come vedete l'anfitrione che mano a mano si è avvicinato appunto alle persone del nostro corso fino ad arrivare nel giardino della scuola. Quindi riorganizzare il tutto in modo da accogliere i personaggi dell'anfitrione. E che dire? Ringrazio questa meravigliosa rassegna internazionale del teatro classico scolastico e buona continuazione, buonasera a tutti gli italiani. Grazie a te, italiani e non. Grazie ragazzi, grazie Tony, grazie prof. La parola passo adezio, grazie. Grazie per tutti gli interventi. Mi dispiace dovervi interrompere ma abbiamo un po' i tempi serrati. Passiamo subito al secondo spettacolo del liceo Pepe Calamo di Ostuni. Grazie, buona visione. presentiamo ora lo spettacolo a cura dell'istituto Pepe Calamo di Ostuni che porta in scena Padesier. In una situazione distotica legata ad una pandemia un clown attraverso un dialogo con se stesso e con gli altri è alla ricerca di senso altro rispetto alla negatività del presente. Fondamentale risolta la tet di un oggetto prezioso, inseguito, nascosto, ritrovato, depositario di una valenza salvetica in un contesto in cui la poesia della parola si fa immagine viva nella diversità dei luoghi e degli elementi ancestrali. Vi lasciamo allo spettacolo. Buona visione. Qual è il tuo sogno? Diventare una ballerina. Mi piace essere così apprezzata e vincere a tutto perché mi piace sognare. Hai sentito anche tu? L'uccello della notte ha cantato fino all'alba. Lo hai sentito? Mi sembrava gradevole il suo canto. Mi ha cullato come una nilla nanna. Non sapevo cosa quel canto annunciasse. Ho soltanto sognato. Mi sembrava di sentire il cavallo in corsa. A volte amo tuffarmi nei tempi che precedono il tempo. Divento come un eroe, un dio. Il mito è adesso. Così mi sembra a volte. Forse l'uccello della notte desidera la primavera. È ancora febbraio, ma ho già visto gemme aprirsi al sole. Ogni primavera, vi confesso, mi sembra la più bella. Sento già la pelle e il sangue che mi fioriscono addosso. Davvero, davvero, è come un concerto. Sarà bellissima quest'anno la primavera. Si porterà con sé i sogni. Sarà come una donna e ci riempirà di meraviglia. E farà rinascere gli amori. Ma tanto lo so. Lo so che tu mi lascerai. E più non tornerai. Ehi, hai sentito? In Cina circola un virus che mette scompiglio in quel grande paese. Di questo cantava l'uccello della notte. L'hai sentito? Milioni di persone rischiano il contagio. È un virus che uccide quello. Subdolo e misterioso. La natura, quando si esprime, a volte mi fa paura. Il colore Amiros dalla Cina è arrivato anche in Italia. Nell'Italia ricca e industriale. Sì, sì, proprio all'Odi. Alle porte di Milani. Mai mi ero sentito così italiano e così milanese. Quest'anno, proprio quest'anno, mi ero fatto una maschera per il carnevale. Per uscire con te, in gran segreto, amore mio. Hanno legato le ali al carnevale. Hanno sospeso i baci. Amore mio. Hanno chiuso i ricinti e i paesi della città. Hanno chiuso le porte della mia casa. E' chiusa anche la mia scuola. Vedo, alle porte, amici miei, un gran periodo di ozio creativo. Approfitteremo per colmare un po' le lacune e fare un po' di ordine in casa e magari anche in testa. Verrà comunque la primavera. Per fortuna, intanto, io ho il mio smartphone per amico. Ho visto le ronde in ieri sopra le case bianche della città. Questi profumi mi fanno impazzire. Sento voci, tuttavia, che mi turbano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che siamo in pandemia. Si diffonde rapido il virus. Mi sembra di sentire come un segnale d'allarme che mi ronza nelle orecchie. A me sembra, amici miei, che il coronavirus sia solo una parte della pandemia. A volte penso a tutta la povertà che invade il pianeta. Una pandemia a cui siamo abituati, che uccide di più del virus. Io sono soltanto un giovane studente e non so quanto mi sia permesso dire il mio pensiero. Beh, in realtà c'è permesso. E lo dobbiamo dire. Soltanto uno stato giusto potrà intervenire sulla distribuzione dei beni, eliminando le povertà più estreme. Facciamo un indovinello. Chi di voi mi sa dire qual è il gioco più bello del mondo? Beh, per me è l'avventura e il viaggio della scoperta. Il teatro, che ci fa giocare dentro il viaggio e dentro l'avventura. Come una gara di parole, ma qui non c'è nessuno con cui disputare qualcosa. Se c'è qualcosa a cui mi ribello, amici miei, è una reclusione forzata, senza che io ne veda il termine. Quel termine in realtà non lo vedono neanche i cosiddetti scienziati. Ma tu lo sai che la libertà è qualcosa che nemmeno le catene riescono a legare. Però, se mi permettete, ci sono cose a cui dobbiamo ribellarci. E non solo per quella povertà estrema che grida contro imputati certi e impuniti. Ci sentono ancora nell'aria voci che parlano di razze superiori, razze inferiori, voci che parlano di migranti senza diritti umani e voci che anche in questa maledetta pandemia parlano di vecchi oltraggiati e abbandonati alla morte. Come... come residui umani. Poi, sui nostri smartphone arrivano voci e parole che cavalcano la paura e si contraddicono, confondendo ancora di più le idee. Ecco, la libertà non ha paura della ribellione. La grida. Però adesso, quando ho i pensieri cupi e tristi, vi faccio un indovinello. Chi di voi mi sa dire dove e quando gli uomini e le donne si sentono maggiormente inebriati di questa libertà? Beh, non c'è dubbio. Nel giocare, nel ridere, nel piangere, nell'amare, nel nuotare, nel cantare. Certo, certo non c'è dubbio. Ma queste, queste cose ce le hanno tolte tutte. Ed è solo nel teatro che noi siamo liberi di fare tutto questo. Qualcuno di voi mi sa dire cosa sia questa noia che mi assale. Io la sento sulla pelle ed è come è atrofizzato il mio sentire. È vero, anche le cose belle, quando arriva la noia, perdono lo splendore. Una volta mi ha preso la noia mentre sentivo il vento che cantava tra i rami. Anch'io la sento e mi sembra un inganno la distrazione a cui questa pandemia ci ha portati. Quasi ecclessando altre pandemie a cui siamo ormai abituati. Alcune voci da anni gridano fino alla noia e disastri prodotti da uomini e donne sull'ambiente. Una noia che a me sembra più un sonno profondo. Se almeno questo coronavirus risvegliasse da quel sonno dovremmo ringraziarlo, non vi pare? Siamo giovani e non dobbiamo permettere che ci addormentino ancora, costruendo per noi un futuro inaccettabile. Quante pandemie dobbiamo ancora aspettare per uscire da questo tepore? Quanto ancora dobbiamo sopportare che le guerre traccino la storia? Quanto ancora dobbiamo sopportare che le donne vengano uccise da uomini ciechi per ritrovare l'amore? Non aspetteremo che sia la noia a rubarci il futuro. Tu lo sai perché ci sono cose che si dicono soltanto col pianto. Lo sai. E quando mi esplode dentro il pianto cadono le parole. Nessuna parola racconterà il pianto. E lo sai perché ci sono cose che si dicono soltanto con il ridere. Ci sono cose tra quelle che gli uomini e le donne fanno, che soltanto i satiri e i clown riescono a dire. Ci sono imprese umane che soltanto una risata può raccontare. E lo sai perché gli uomini fanno le guerre. Vi sapete dire perché nessun poeta, nessun artista vuole la guerra. Per fortuna c'è il teatro per poterlo gridare. Per questo il racconto e il teatro sono necessari. E come potremmo raccontare nel tempo il morso di una pestilenza? Con il pianto, con il riso potremmo raccontarlo. Dentro il teatro lo racconteremo. e come potremmo raccontare nel tiro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per questo lavoro. Volevo scusarmi per i primi minuti perché c'è stato un problema tecnico, quindi abbiamo un po' disturbato il video. Volevo scusarmi con il gruppo del Calamo e volevo passare la parola a Salvatore Guadagnolo e a Enzo D'Arco per un commento con i referenti Alessandro Fiorella e Guglielmo Pinna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è come a teatro quando andavo alle rassegne e sali lì dovevi stare concentrato giustamente per tutto il tempo della rappresentazione. Il vantaggio del video è che se ti sei perso una cosa la puoi rimettere e rivedere. E' stata la mia intenzione di rivedere più volte questo lavoro. Allora, almeno qui, ma non penso qui, è la prima volta che un lavoro affronta sul testo di Guglielmo, affronta chiaramente la questione, pandemia, virus, c'è stato di questo evento che ha sconvolto il mondo. Però in una maniera insomma particolare, non parlo solo della scrittura, poi dopo ne possiamo parlare subito un attimo dopo. Però proprio perché poi abbinare a questa scrittura questo pa de circa, questo non circo, questo mondo insomma del circo. Perché proprio il circo? Era una curiosità che, voglio dire, un'idea può essere venuta anche ad Alessandro, a Giorgia, insomma. Però ecco, come l'avete vissuta? Non era un po' cavoli a merenda questa cosa qui? Diciamo che questo accostamento deriva dal fatto che insomma il clown, il circo è comunque qualcosa di estremo, che riesce, il clown riesce a passare dal drammatico, al comico, questa capacità di non essere, come dire, né troppo rigido e avere, come dire, anche nell'estetica questa leggerezza, questa simpatia di fondo, che con un tema di base come quello della pandemia così, come dire, importante, così pesante, che ancora oggi è molto sentito e delicato, alleggeriva in qualche modo, ecco, quella che era il prodotto finale. Diciamo che riuscire a interpretare un clown è davvero qualcosa di difficile, perché rispecchia sia l'ambito tragico, sia l'ambito comico, che il tragicomico è la cosa più difficile da fare, lo sappiamo. Sicuramente il clown, nell'essere sopra le righe, nell'essere super partes, poteva in qualche modo riuscire ad affrontare al meglio questo tema, nonostante la difficoltà e l'importanza di questo tema, si parla proprio di leggerezza, ora i fiori, ora l'aria, che è uno degli elementi più presenti anche all'interno del cortometraggio, queste ampie visioni che ci sono, riuscire ad accostare sia una dimensione microcosmica, e che si rivela anche nella mimica facciale, ma allo stesso tempo una dimensione macrocosmica che può essere anche la vista dell'oceano, per esempio. Quindi sicuramente il clown, questa è stata la motivazione per cui abbiamo voluto abbinare un tema del genere alla libertà di espressione che è tipica del clown. Sì, libertà che non c'è stata insomma, voglio dire chiaramente, quindi… Libertà che c'è stata proprio tarpata in qualche modo, esattamente. No, perché… Prego. No, vai, vai. Infatti è proprio la dimensione del sogno, come abbiamo detto in chiusura, cioè riuscire ad affrontare un peso così grande come la chiusura di tutto era possibile soltanto tramite la dimensione onirica, perché la pandemia alla fine ci ha fatto anche questo, ci ha addormentati, ci ha assopiti, e invece il nostro ruolo in questo cortometraggio era proprio quello di risvegliare gli animi, di riuscire a riaccendere anche la passione che può essersi spenta in questo grande periodo di chiusura. Pensate che c'è questo pericolo, che la passione si sia spenta? Dai, io… Diciamo che siamo passati in generale, penso, dalla nostra vita frenetica e continua a fermarci ad un tratto e, come dire, avere la possibilità di guardarci intorno. Una passione spenta, sì, per le arti, per i nostri sogni, quelle che sono le nostre dimensioni, un'incertezza di base che non ci ha permesso di andare oltre, di pensare. Riferimento molto chiaro nell'ultima parte del testo in cui si esplicita quanto in realtà sia l'unico modo in realtà per, come dire, sognare, continuare a sognare e continuare a sperare sta proprio nell'arte, per uno strano in realtà riflesso questo, perché solitamente l'arte è quella che, come dire, è la finzione, non è la realtà. In questo meccanismo c'è stato un ribaltamento, era come se l'arte fosse in realtà l'unica realtà che ci veniva posta e da questo penso che sia anche cambiata, come dire, un'esigenza del pubblico in generale, questa necessità di doversi in qualche modo rivedere, questa necessità di sentirsi in qualche modo parte dello spettacolo, questa, come dire, era l'intenzione. A me sembrava interessante, insomma, chiaramente tutto quello che avete detto, soprattutto questo contrasto di cui parlava, non so il nome, che sta con Giorgia. René. Come? Mi chiamo René. René, insomma, che ha detto questa cosa, appunto, la leggerezza della tragica commedia del clown, a me sembrava un messaggio molto potente, ecco, di una potenza espressiva notevole e anche profondo, quindi è chiaro che, come devo dire, poteva essere pericoloso questo linguaggio, perché poteva andare nell'evasione, invece no, il sogno, l'onirico, la concezione di una possibile utopia, no? E hai detto bene, secondo me, e viene fuori fortemente più dalle immagini che dalle parole, questo concetto che hai espresso tu, Giorgia, no, dell'arte come possibilità, diciamo, di salvezza, se vogliamo adoperare un termine che a me non piace molto, ma comunque di possibilità di esistenza. E quindi vi ringrazio, insomma, di questo messaggio. Chiaramente il tutto pensato in una dimensione, cioè qui abbiamo visto, non solo qui, io ho visto cortometraggi nelle classi, nell'aule, nelle case, appunto abbiamo visto prima in un giardino di una scuola, qui siete impossessati di una città, non solo di una città, in tutte le prese, addirittura anche con la sbaglio o anche con la neve a un certo punto, la neve a Ostuni doveva essere qualcosa di magico, no? Chiaramente, bianco su bianco. No, ecco, vivere in questa, non so, insomma, se volete dimmi qualcosa, io l'ho trovato molto liberatorio, non solo bello, struggente, nostalgico, tutto quello che volete, ma ecco, impossessarsi di una città in questa maniera, l'ho trovato molto liberatorio, oltre che poetico. Voi vi siete divertiti un sacco, ho fatto fuori come... Sì, assolutamente, anche perché per noi era importante il contrasto fra la parola che ha seguito per tutto il cortometraggio e l'immagine che invece cambiava nella scena, perché appunto la città è stata rappresentata in luoghi diversi, con diversi elementi come aria, acqua, perché abbiamo visto il mare, anche neve appunto, quindi c'è stata proprio una trasformazione che segue appunto il discorso del sogno, soprattutto io faccio parte del biegno, quindi io non ho avuto modo di fare molte lezioni in presenza di teatro e questo è il primo lavoro che portiamo, quindi non ho mai fatto uno spettacolo in presenza. L'idea del sogno e del distacco della realtà ha proprio aiutato per noi del biegno, che non abbiamo mai avuto esperienza teatrale, a immedesimarci in un'altra dimensione, che è quella del ritorno alla normalità, quindi anche la scoperta dei luoghi, del nostro territorio, di ciò che fa parte proprio della nostra quotidianità e che si era perso un po' con il rimanere in casa, che non avevo più trovato. Sì, infatti Elena era evidente, era forte, insomma, perché io parlo di impossessarsi non come un esercito, ma come un esercito pacifico di sognatori, che giocano con i palloncini a forma di cuore in quel posto bellissimo, insomma. Giorgia stavi dicendo qualcosa. Anche perché, se posso aggiungere una cosa, anche perché dopo aver fatto un anno di teatro in dad, aver fatto comunque questo corto, impossessandoci della nostra città, ci ha aiutato molto, anche passando comunque dal mare o tra le strade di Ostuni, quindi ci ha aiutato molto, anche perché io facendo il terzo anno, ho passato comunque la fine del mio biegno, comunque anche l'inizio del terzo, dopo aver fatto soltanto uno spettacolo alla fine, con la normalità e mi ha aiutato. Diciamo che in mancanza di una, come dire, di un pubblico, di quell'emozione, di quel brivido che ti può dare un pubblico in teatro, sostituire il pubblico a un elemento naturale è stato, come dire, qualcosa di stimolante, penso anche per gli stessi attori, per anche i registi stessi, stare in un ambiente come l'animato, avere questa forza esterna che poteva essere il semplice sciavordare del mare, dall'uccello che ci unguettava, alla gente che passava e ti guardava un po', come dire, in maniera stramba, perché vestiti così in un paese molto divertente, loro possono confermare questo. Ma la provocazione è stata sicuramente uno degli elementi fondanti, nel senso che sì, siamo dei clown, dei sognatori pacifici, però comunque siamo accesi da un fuoco, anche se era l'unico elemento che paradossalmente non c'era, ed è proprio un fuoco che ci porta a uscire nelle piazze, a valorizzare anche quelli che sono dei luoghi che possono sembrare banali per uno che li percorre ogni giorno, ed è proprio andata così di fatto. Pensate che, non vi voglio fare il pippone di storia, però Guglielmo me lo può dire, dovete pensare che 50 anni fa ci furono delle persone che erano stufe del teatro, dentro i teatri, cominciarono ad andare nelle piazze tra la gente, tra i bambini, cominciava l'animazione teatrale, ed era una di quelle azioni che ha sconvolto proprio il modo di pensare il teatro, anche in ambito educativo. È un po' la stessa spinta che avete avuto voi. Ma l'ultima domanda vorrei chiedere, bene, da domani si torna in teatro, quindi adesso tutto questo vostro percorso bisogna farlo in teatro. Io vedendo questo cortometraggio non lo immagino proprio in teatro, voi come lo vedete? Se lo vedete in teatro. Diciamo che c'è già l'idea di uno spettacolo in presenza, che sarà il proseguo in realtà di questo cortometraggio, ed è tutto basato su questo rapporto tra reale e virtuale. Ci sarà il libro finale che si vede dove c'è scritto il sogno, uscirà sotto forma di lui qui che era il clown che faceva il sognatore, uscirà dal vivo, dallo schermo e si entrerà di su. Non spoilerare niente. No, volevo solo... Solo rivisto che, scusatemi, è un errore registico gravissimo questo. No, no, volevo solo sapere appunto se già lo immaginavate con un altro... Sì, c'è già un'idea. Io vedendolo... Questi poi tornano a fare teatro, fanno un'altra cosa, insomma, no? Cioè, si ritorna a un testo, si ritorna a un laboratorio, si ritorna ad un'altra cosa, insomma, come... Cioè, voi già pensate che questo sogno, questa nostalgia, questa ironia, questa leggerezza, fatta con questo linguaggio, che è stato un linguaggio molto potente, molto forte che arriva, può essere tradotto in teatro dove c'è un altro tipo di potenza espressiva? Sì, sarà una missione... Una missione impossible. Molto curioso! Però è proprio il nostro obiettivo, quello di riuscire a anche unire questo tipo di espressioni, l'espressione cinematografica, l'espressione teatrale, riuscire a essere d'impatto sia da un lato che dall'altro. Pertanto questo è proprio lo scopo che ci conduce. Ragazzi, veramente in bocca al lupo allora, perché sono molto curioso e vorrei poi sapere il prosieguo di questa avventura. Allora, Enzo, se vuole dire qualcosa... Posso... Sì, volevo chiedere anche una cosa ai ragazzi. Questa vostra idea che abbiamo tutti visto, insomma, è stata la scelta primaria, è stata l'idea primaria che vi ha portato a questo tipo di scelta artistica di rappresentazione in questo modo che abbiamo visto, oppure è maturata da altre idee e poi è arrivata a questa idea finale di rappresentare in questo modo queste vostre... Appunto, questo testo, è arrivato... L'avete fatto in base al testo perché quello vi ha suggerito in prima battuta, oppure ci sono state diverse vedute da questo punto di vista, vi siete confrontati sulle diverse opportunità per poter rappresentare ciò? Diciamo che all'inizio c'era l'idea, essendo stato scritto in maniera dialogica, di mantenere un dialogo tra i vari personaggi, tra i vari clown che vengono poi rappresentati. Per un'esigenza tuttoregistica e cinematografica, diciamo che ci siamo resi conto, mi sono resa conto, diciamo che dieci minuti di dialogo continuo potevano risultare essere pesanti, motivo per il quale abbiamo poi optato per l'alternativa del tappeto sonoro univoco, alternato semplicemente a delle musiche strumentali. Fondamentalmente, diciamo che anche i ragazzi potranno confermarlo, è stato fatto un lavoro sui singoli personaggi in precedenza, così come in uno spettacolo teatrale, vero e proprio. C'è stato lo stesso lavoro, il cambio, diciamo, c'è stato solo poi nella realizzazione, che non è stata subbattuta, ma appunto con una voce narrante di base. Sfida anche per loro quella di riuscire in qualche modo ad interpretare le parole tramite i gesti, una sfida che ti pone in realtà la telecamera, no? Sì, infatti, scusami, Giorgia, se ti interrompo. No, 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 perché io qua non posso dire nulla. Per noi l'assegnazione delle battute inizialmente è stata comunque fondamentale nella costruzione del personaggio, perché ognuno di noi ha proprio creato una personalità, un essere completo, che ha poi dovuto rappresentare ancora in modo più difficile senza l'utilizzo del linguaggio. Quindi è stato tutto il lavoro di proprio anima, del personaggio. Infatti, comunque, inizialmente noi abbiamo lavorato tanto col professore su ogni singolo sguardo, ogni singola intonazione, ogni singolo movimento, perché il personaggio poi deve mantenere la linea che gli è stata data all'inizio riguardo proprio alla personalità. Ed è quello che è stato il lavoro più difficile, soprattutto da mettere in scena, perché comunque senza l'utilizzo della parola è chiaramente più complesso, ma è stata anche una bella sfida e secondo me rimarrà comunque una cosa importante per quando torneremo a recitare in presenza, perché non bisogna mai dimenticare né una cosa nell'altra. Quindi sicuramente questa esperienza ci ha anche dato tanto da questo punto di vista. Bene, allora... Anche perché... Prego, prego. Anche perché comunque noi abbiamo costruito il personaggio come ha detto Ellen, anche partendo dai costumi, dalle azioni, e anche in un certo senso sia con l'aiuto del professore con gli incontri, ma avendolo costruito tra i vari periodi di quarantena ci ha anche aiutato molto diciamo nel tutto per raggiungere. Quindi è stata una sfida ma che comunque ci ha fatto crescere molto. Va bene, grazie. Grazie, grazie. Grazie, ragazzi. Vorrevo parlare e vogliamo parlare di tante cose, però Ezio ci bastonerà perché siamo... non possiamo salire più. Vorrevo parlare del testo, ma ci sarà occasione quando lo vorrò... verrò a vedere il prosiglio in teatro. Va bene, se mi invitate. Alessandro, vuoi dire qualcosa? Il nostro Guglielmo non parla. Io lascerei volentieri di la parola per Maria Giulia che la vedo lì e vorrebbe forse dire due cose. Niente, l'invito è aperto per te al 9 di luglio all'Anfiteatro di Santa Maria di Ragnano qui a Dostugli dove il proseguo appunto avverrà dello spettacolo che si chiama Il Sonno dei Brodi nel caso senza spoglierare nulla. È un bellissimo sconario sul Mediterraneo un anfiteatro nel museo delle civiltà per classiche dove noi facciamo di solito la nostra rassegna. Io citerei veramente che Maria Giulia dicesse due parole. Volevo dire solo un piccolo pensiero che la maschera clownesca è uno dei focus proprio del nostro cortometraggio. Diciamo, se la strada, il cinema, il teatro sono i contesti più naturali e originari in cui questa figura agisce, è anche interessante notare come il clown è forse uno dei personaggi dello spettacolo più capace di avvicinarsi ad ogni tipo di pubblico di contesto e di sentimento e anche di inalzarlo ad una dimensione altra, astratta eppure poeticamente concreta. Dalla figura clownesca inoltre ha preso ispirazione e anche forma un'ampia galleria di personaggi che come abbiamo visto sono poliedrici da personaggi clown, goffi, impacciati o anche tormentati, frivoli o anche combattuti tra la grandezza e la miseria pascaliana che sono poi tragicamente complessi ed estremamente concreti e vicini poi insomma inutile dirlo soprattutto all'essere uomo proprio e nel sonno e nel sogno vissuto durante la pandemia che appunto abbiamo tutti e abbiamo dovuto vivere in questo lungo periodo i nostri clown hanno dialogato con i loro sentimenti più profondi e ora con cautela appunto come ci avete chiesto prima sono pronti a svegliarsi dal torpore e ad interagire con il mondo quindi ci sarà sicuramente un proseguo bene grazie mille Maria Giulia Alessandro Guglielmo volete dire qualcosa? no io sinceramente penso che penso che Guglielmo non riesca ad attivare il microfono confermo il fatto che subito ci siamo resi conto che ideologico tanto caro insomma la scena canonica non funzionava si rischiava chi ha dimestichezza insomma con in qualche maniera con la cinematografia sa che si rischiava di uscire l'espressività comprimerla ammazzarla e quindi abbiamo optato per una scelta diversa un'integrazione indipendente non so se poi alla fine ce l'abbiamo fatta ma in modo che si potessero leggere le voci le immagini e le musiche su diversi piani quasi uno simbolo in modo che potessero avere forza tutte e tre le modalità in questo gioco interattivo però che nessuno potesse anche cedere un po' come qualcuno ha parlato di oceano il mar mediterraneo è un mare lo vedo in tutta la sua estensione però posso provare anche a vedere la goccia ora chiaramente è una cosa complessa quello che gli dico non so ripeto se siamo riusciti però abbiamo tentato questo lavoro enorme considera che noi abbiamo girato qualcosa come 40 ore ci sono 40 ore di girato su 11 minuti di corto perché ci siamo visti 10 giorni 4 ore al giorno fai un po' i conti quindi abbiamo scartato veramente tanto materiale per fare questo per fare questo video bene e vi ringrazio di questo bellissimo lavoro grazie veramente grazie a voi niente non vuoi parlare ci scriverai qualcosa allora sì voglio solo dire che non è nel francese fa del circo nel senso di passo di circo passi spezzati facciosi passi eleganti armoniosi poggiati su opportune tessiture musicali insomma nella miseria del faticoso vivere quindi è un passo è un passo che qualche volta va e qualche volta insomma inciampa e ci sono incianti e ci sono risalite questo era il titolo insomma almeno per noi era questo il significato del titolo mi sentite adesso forte e chiaro no niente stavo pensando all'ambiguità del titolo anche padre circo sì non circo ma anche passi di circo perché si può interpretare anche così stavo pensando che è interessante il fatto che loro siano partiti diciamo il testo la primavera e che i giovani siano i maggiori portatori della primavera ecco la primavera è la gioventù ecco la primavera è la gioventù e loro si sono imbarcati dentro a questa pandemia riportando praticamente il mito perché mi faccio di aver interpretato tutto quanto come se fosse un mito e cosa è mito ancor più di una pandemia che è una cosa che abbiamo addosso da sempre così mi sembra molto interessante un'altra cosa che volevo dire è che sto immaginando un testo su queste azioni splendide di teatro un testo un altro testo che ci potrebbe stare perché in effetti c'è stata una specie di dislocazione delle cose però il senso dato a quelle azioni se non avesse queste parole portanti che sono legate alla pandemia che era il tema principale io vedo difficile che potessero essere rappresentate comunque mi è piaciuto moltissimo è un onore che dei giovani dei ragazzi e dei registi così bravi come Alessandro e Giorgia abbiano preso in considerazione questa cosa però mi sembra interessante anche la diciamo la separazione tra testo e azione che è una separazione finta ma non è separata poi dopo che il teatro sia la città prima ancora che il teatro di questo sono convinto da sempre io non ci voglio l'animazione per dirlo per me i teatri naturali sono quelli gli unici luoghi da cui nasce il teatro poi se lo voglio chiudere dentro un teatro lo faccio anche ma non è meglio ecco quindi sono stati bravissimi a mettere in scena dentro i nostuni e nei dintorni lo spettacolo e comunque mi è piaciuto molto bravo dando vita al teatro naturale che ti piace e ci piace molto grazie Guiliano grazie Alessandro e grazie soprattutto grazie a voi grazie 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 per questo bellissimo dono Ezio la parola a te grazie davvero passo un attimo la parola al preside Viaggio Clemente io la prendo brevemente ovviamente non solo per ringraziare i nostri gentilissimi ospiti ma anche per presentare un amico della nostra scuola il liceo Cagnazzi parlo del professor Perrone amico ma anche istituzione sul territorio da ormai anni e idealmente come dire propositore per questa città di atteggiamenti culturali e assessore alla pubblica istruzione alla cultura quindi credo che ecco al di là del valore aggiunto lui è anche docente universitario credo che abbia ecco veramente il piacere di non solo salutare chi ci ascolta a livello anche internazionale ecco lo ricordo al nostro amico Nino Perrone che è il progetto Erasmus che coinvolge ecco coinvolge altre scuole a livello europeo e per noi diciamo elemento di partecipazione anche di contaminazione delle varie possibili ecco diciamo prospettive artistiche gli amici spagnoli gli amici greci polacchi francesi hanno una loro idea che ecco da noi viene assemblata e portata ad evidenza in questo festival della rassegna internazionale del teatro classico Nino a te il microfono e adesso funziona? ok stavo dicendo farò una vi dirò un paio di cose niente di interessante però sono cose che le dico a ragion veduta innanzitutto perché sono padre di due ex allievi che hanno fatto il percorso scolastico qui in questa scuola e devo dire che proprio alla luce dell'esperienza che ho avuto con questi miei due figli non posso che sottolineare che siete fortunati perché questa scuola che frequentate di cui probabilmente non potrete fare almeno anche di trovare tanti difetti a cominciare dal preside perché il preside per definizione va contestato diciamo e anche questo è una diciamo è una palestra educativa che si fa nella scuola imparare anche ad avere il senso critico ma al di là di questo è una scuola dove avete la possibilità di cogliere quella scintilla che potrebbe persino segnare proprio l'intera vostra vita è successo così per i miei figli che proprio grazie a un'esperienza di questo tipo grazie a un'attività di teatro che ormai si fa da tanti anni hanno una in particolare la più grande adesso fa scenografia nei teatri perché ha fatto il percorso delle delle accademie di belle arti ma vi assicuro che la scintilla è nata qui così come l'altro beh l'altro ha preso una strada ancora più più ancora più particolare ma è qui che ha coltivato questa passione e allora io quello che vi voglio dire è che siete fortunati davvero non lo dico per circostanza sempre al netto del preside perché il preside no lo dico perché siamo amici e ce lo possiamo permettere siete fortunati perché tra l'altro questa è una scuola che per come la sto vedendo in questi ultimi anni è una scuola che è riuscita a contemperare quel giusto equilibrio tra cultura umanistica e cultura scientifica che è la vera come dire la vera chiave per affrontare anche le sfide che ci stanno davanti in questo mondo globalizzato vi faccio solo un esempio io insegno al Politecnico e mi capita spesso poi di di ripercorrere i percorsi di alcuni allievi che nel frattempo hanno fatto il loro percorso di vita un po' in giro per il mondo vi posso dire che alcuni innanzitutto questo lo posso affermare con dati statistici alla mano ogni anno i migliori in fatto proprio di performance dal punto di vista universitario i migliori vengono quasi sempre dai licei classici su questo è una costante ormai da vent'anni che ho la possibilità di misurarlo ed è così cioè chi esce dal ciclo di studi strutturato con una conoscenza sia del mondo umanistico della cultura umanistica che di quella scientifica è sicuramente meglio attrezzato per affrontare poi la sfida della propria vita dei propri progetti non è un caso che quando vi presenterete a qualunque colloquio ve lo posso garantire il fatto di dire che venite avete fatto il liceo classico già vi mette in una condizione di come dire di privilegiata perché c'è sempre un atteggiamento molto positivo rispetto a chi proviene da una scuola di questo tipo ma quello che vi volevo dire invece è questo che questi ragazzi che poi incontro dopo tanti anni che alcuni dei quali sono andati a finire persino in America Silicon Valley a cercare il proprio progetto di vita lì mi dicono continuamente che ormai quello che la professionalità più ricercata non è quella informati ingegneri informatici non ne vogliono più da nessuna parte ce ne sono troppi in giro ma hanno quando vedono che c'è una una persona con un buon bagaglio di cultura umanistica i filosofi in particolare li prendono subito nei team di sviluppo di in Silicon Valley Google Facebook se vi presentate con un curriculum di questo con un forte diciamo una forte componente umanistica è una delle professionalità più ricercate in questo momento perché hanno bisogno di persone che pensano persone che fanno ce ne sono tantissime ma persone che pensano e lì è un po' più difficile trovarle e questa è una è una palestra ormai lo dico non per piageria nei confronti del preside e delle insegnanti lo dico perché è la verità e questo anche questo spettacolo che avete fatto oggi cioè non oggi quello che di cui oggi di cui oggi avete avuto il premio ma che avete fatto questo degli uccelli di Aristofane che mi sono visto su su Facebook me lo sono visto tutto devo dire che è una genialata quella che avete fatto perché innanzitutto complimenti al regista Fiorella non solo per la scelta e per come lo ha impostato non so chi ha fatto i costumi degli uccelli che sono bellissimi che secondo me dovreste farne una mostra di quei costumi ma la cosa che mi ha colpito è la la profondità di questo testo di Aristofane a me ha fatto pensare proprio alla condizione in cui siamo oggi che abbiamo bisogno di ripartire di reinventare una nuova città perché di quello abbiamo bisogno di riscrivere le regole della convivenza dopo questo anno e mezzo di pandemia e quindi in quel testo di Aristofane in cui si parla appunto di questa nuova città tra cielo e terra sospesa in cui bisogna riscrivere tutte le regole in cui si rimettono in discussione quasi tutto mi sembra una scelta attualissima a dimostrazione di quanto la cultura classica trattando i temi universali come nessuno meglio dei classici sa fare e di un'attualità disarmante per certi versi e questo testo veramente complimenti non so chi c'è qui tra gli attori che hanno fatto quella cosa stupenda vi devo essere sincero ma la sono vista all'inizio alla fine perché era veramente dall'altro girata anche bene quella il filmato e per cui ragazzi che dire complimenti e andate avanti così tutto qua tanto grazie grazie al professor Perrone Nino per gli amici ecco insomma visto che mi ha bistrattato diciamo come figura istituzionale credo che valga la pena solo sottolineare una cosa insomma ecco culturi di pensiero sì ma siccome tu sei memore come me di una trasmissione di Renzo Arbore non vorrei che poi ci fossero i pensatori quiz ecco diciamo di Arboriana Memoria chiaramente i ragazzi non possono ecco capire e comprendere questo percorso veramente dantan e sì sono d'accordo con l'idea che oggi una scuola come la nostra abbia il piacere e dovere di consegnare alla società quindi a noi stessi quello che è un po' il valore aggiunto il valore aggiunto di un istituto che diciamo per antonomasia ha dato fondamento a tante personalità come studi come indicazioni come orientamenti e credo che si debba veramente valorizzando anche la risorsa che è la cultura che pervade i nostri docenti perché a tramite loro i ragazzi si appassionano danno riscontri di voler continuare sul percorso di un laboratorio che per noi del Cagnazzi da 26 anni ha prodotto veramente grandissime belle ed entusiasmanti realtà effettivamente l'ho detto in un altro intervento è successo per tua figlia ma è successo anche per tanti altri che da queste esperienze poi nascano voglio dire oggettivamente percorsi professionali miranti proprio a questo settore quindi veramente grato per questa tua diciamo idea di come ci giudichi bene adesso grazie grazie ancora alla nostra amministrazione per il tramite dell'assessore Dino Perrone e a voi i microfoni per la continuazione della serata proseguiamo con lo spettacolo dell'istituto massimiliano massimo di Roma lo spettacolo Baccanti caos divino presenta una sceneggiatura originale tratta dalla tragedia di Oripide Baccanti contaminata con risonanze liberamente desonte dall'innorfico a Dioniso recitato nel biologo dalla Corifia dalle Baccanti di Oripide un rito di comunione di Boiso Inca e dal Christmas Patience di Gregorio di Nazianzo il fallimento della cieca razionalità di Penteo atrocemente sconfitta dall'istintuale rigidità dionisiaca viene amplificato da uno scambio continuo tra realtà e illusione menadismo bianco e menadismo nero enfatizzato dalla scrittura del mito greco da parte del nigeriano Volsu Inca premio Nobel per la letteratura nel 1986 che reinterpreta Dioniso come una prefigurazione o reincarnazione della divinità africana del ferro della guerra della strada del vino a Volsu Inca si schierano i sabba delle baccanti e il colpo di scena presente nella chiusa dove il sangue che sconvolge tutti i personaggi in realtà ha vino come dimostra l'indomino Tiresia modellato liberamente sul Christus Patience di Gregorio di Nazianzo e il compianto di agave sui resti strazzati del figlio la tragedia baccanti di Orindia su cui si incardinano i pertesti menzionati è stata rigorosamente tradotta e adattata per rispettare i fruitori attuali facciamo lo spettacolo Buona Visione invoco Dioniso altisonante lieto e sereno ispiraci primo genito dalla duplice natura generato tre volte bacchico sovrano selvaggio misterioso arcano con due volti coronato di edera dall'aspetto di toro bellicoso e santo lui che si nutre di carne crude produce grappoli vestito di fronde tu saggio demone immortale generato dall'unione misteriosa di Zeus e semele ascolta o beato la nostra voce vengo nella terra di Tebani io Dioniso figlia di Zeus e di semele figlia di Catmo fulminata a causa della gelosia immortale di era contro mia madre l'odocatmo padre di semele che ha reso inviolabile questo luogo in cui la figlia è diventata cenere Tebe è la prima città greca che ha scosso col grido di tutte le donne sul loro corpo ha messo la pelle di cerbiatto e tra le loro mani il tirso il ramo inconorato di edera è ora di affermare la mia verità Tebe mi ha coperto di infami e bestimia contro di me perché le sorelle di mia madre andavano dicendo che Dioniso non è nato da semele e che semele sedotta da un mortale rigittò su Zeus la colpa del suo letto e che Zeus l'ha uccise per aver ingannato sulle nozze ora questa città deve capire che ha bisogno dei miei riti e che io difendo mia madre e semele mostrandomi ai mortali come il figlio generato da Zeus Kadmauer ha dato il potere di sovrano a Penteo nato da sua figlia Agave che combatte la mia divinità mi esclude dalle libagioni e non mi nomina nelle preghiere ed io gli dimostrerò di essere un dio dopo aver preso l'aspetto di un mortale ed ora voi donne e barbare che ho condotto con me venite intorno al palazzo del Repentio e fate risuonare i tamburi mostrati Dioniso le tue baccanti hanno conquistato il campo guidaci adesso abbiamo piazzato insieme attraverso la linea latina su fiumi d'orale attraverso il merivista colmi di lì compagni di tre e città sorride nelle stesse della pesca e nelle salve della bella attraverso la danza del sole sui punti dell'edio abbiamo piazzato sui laggi sul mare sulle opzioni piantando radici servono più il proposto facendo a sentire anche nel terreno più alto la pietra e misteri come vimpia gli aventi aggiuntati hanno temato abbiamo visto colline rocciose premere abbiamo visto la terra rinvegliata abbiamo visto queste sponde dalle loro tante abbiamo visto l'info scorre nelle ghialle e le porte di terne franto marzo al grido delle baccanti chi è alle porte qualcuno annuncia a Cadmo che Tiresia lo sta cercando egli sa per quale ragioni vengo e che cosa voglio far io pur essendo vecchio brandire tirsi indossare pelli di cerbiatto e coronare il capo con germogli d'edera ah carissimo eccomi pronto con questo abbigliamento del dio Dioniso Dioniso figlio di mia figlia deve essere grandemente esaltato dove bisogna danzare si mia guida tu Tiresia tu infatti sei saggio dimentichiamo con gioia di essere vecchi dunque anche tu provi le mie stesse sensazioni anch'io infatti mi sento giovane e parteciperò alle danze Dioniso ha tolto gli anni dalla mia schiena noi soli danzeremo per Dioniso mi dai la mano quando ti immergerai nella danza ti libererai delle tue certezze l'accettazione di se stesso è la vera statura dell'uomo sei immerso nella tua intima essenza profonda questo è ciò che produce la danza di Dioniso questo è il suo significato danza cadmo danzeremo per tutto il cammino fino alle colline poiché tu non vedi questa luce Tiresia sarò io con le mie parole a vedere per te ma ecco Penteo che corre verso la reggia sembra sconvolto che novità ci porta metterò ordine fate immediatamente sapere alla cittadinanza che Penteo è qui per riportare ordine e stabilità mentre ero lontano da questa terra ho sentito che le nostre donne hanno abbandonato le case e che vagano sui monti ombrosi onorando o condanze questo nuovo dio Dioniso chiunque gli sia ma ecco quest'altra assurdità non ci posso credere l'indovino Tiresia ornato di una pelle di cervo scherziata e il padre di mia madre che gioca a fare la baccante con tirse ed era che buffonata questa è opera tua Tiresia se tu non fossi stato solamente un vecchio rottame presto avresti trascinato le catene insieme agli altri attento Tebe non si fermerà di fronte a nulla per difendere il suo buon nome macchiato dall'oscenità e dall'indecenza non bestemmiare figlio abbi un po' di rispetto per il cielo o perlomeno per i tuoi antenati sono ancora Cadmo ho seminato i denti del drago e generato una stirpe di superuomini tu stesso sei nato dalla terra ricordalo il figlio di Echione infangherà ora la sua casa per alcuni è facile fare discorsi ma la tua lingua che scorre libera deriva da pura vanità a pente perché la tua mente è ottosa morta imprigionata nelle parole una nuova vita giunge tra noi così grande che presto avrà autorità in tutta la Grecia ma tu non riesci a percepirla sveglia penteo apri il tuo cuore che cos'è la vita se non un viaggio verso la morte che dà forza e consolazione attraverso Dioniso noi oltrepassiamo quella putrefazione della carne che comincia dal nostro ultimo respiro questo è un dio dalle capacità profetiche che libera la mente e la riempie di visioni Dioniso è qui è attivo in tutto il mondo accettalo versa vino per lui e per lui danza ti piacerebbe follia e stravaganza richiede onore al timbro di approvazione di un capo di stato se tu solo abbandonassi questa concezione che il potere è tutto ciò che conta nella vita di un uomo non scambiare per saggezza le fantasie della tua mente malata Dioniso garantisce la conoscenza di se stessi guarda dentro di te pentio conosce veramente se stesso sei ancora in tempo salvati se puoi sacralità signora tra gli dèi che sulla terra la tua ala d'oro di spieghi senti queste parole di penteo senti l'impia violenza contro Dioniso il figlio di semele che nelle feste dalle belle corone è il primo dio tra i beati di questo egli accura iniziare a tiasi con le danze sorridere al suono del flauto e far cessare gli affanni quando arriva lo splendore del grappolo nel banchetto degli dèi e nelle feste ornate di edera la coppa infonde il sonno fra gli uomini il dolce sonno che scioglie le membra delle bocche senza freno e della stoltezza senza norma il risultato è la sventura invece una vita tranquilla e la saggezza rimangono senza scosse e mantengono salve le case in parte di dei anche se apena lontano nel cielo vedono le azioni dei mortali la scienza non è della saggezza e non lo è il pensare al di là dell'umano la vita è breve per questo chi insegue grandi mete non riesce a cogliere l'attimo questi affeggiamenti sono proprio di uomini folli potessi andare al ciclo l'isola di affredire dove abitano gli amori che incantano i mortali potessi andare dove la splendida Pieria sede delle musse sacra pendice dell'Olimpo la conduci mio Dioniso dio dei barchi ciriti la sono i cariti la è desideri la è licita dei baccanti celebra il vita questo dio figlio di Zeus gode dei banchitti e ama la pace che dona felicità ugualmente al ricco e al povero conciò di avere la gioia del vino che annulla il dolore ed è saggio tenere la mente e il cuore lontano dagli uomini che sanno troppo preferisco ciò che la gente più umile reputa vero e metti in pratica ventio abbiamo catturato la preda che ci avevi ordinato di cacciare lo straniero sorridendo ci ha offerto le mani perché lo legassimo e lo portassimo da te ma le baccanti che tu avevi chiuso nelle prigioni delle città sono sparite le catene e i loro piedi si sono miracolosamente sciolte ed ora corrono libere per i campi invocando Dioniso sciogliete le mani al prigioniero è nella nostra rete e non ci può fuggire sei bello straniero hai una chioma folta e la pelle bianca per dare con il tuo bel viso la caccia ad Afrodite fai vedere le mani come pensavo neanche una lotta e neanche un giorno di lavoro nei campi le arti della guerra poi devono esserti altrettanto strane dimmi qual è la tua patria e dove hai imparato i misteri che porti nell'Ellade la mia patria è la Lidia e sono stato iniziato a misteri da Dioniso in persona figlio di Zeus c'è uno Zeus da voi che genera nuovi dèi no è lo stesso Zeus che si unì a Semele e questi nuovi riti come si svolgono? coloro che non sono iniziati a Dioniso non possono conoscere i suoi riti tu dici di averlo visto Dioniso e com'era? Dioniso ha la forma di tutti gli uomini di tutti gli animali e di tutta la natura sceglie a suo piacimento non stai rispondendo alle mie domande chi dice cose sagge sembra stolto allo stolto tutti gli stranieri celebrano i suoi riti infatti sono assai meno saggi dei greci gli stranieri hanno usi diversi ma sono molto più saggi dei greci il rito si svolge di giorno o di notte? di notte la tenebra è sacra povero Pentio come devi soffrire vincolando così rigidamente le ore del giorno e della notte secondo gli schemi di peccato e virtù noi teniamo i nostri riti principalmente di notte perché la luce regala emozioni al cuore l'olio è un'offerta e l'alone di luce è magico immagina una montagna scura costellata da una miriade di minuscole fiamme poi pensa alla mente umana come quella montagna scura le cui grotte sono paure che noi stessi ci infliggiamo Dioniso è la fiamma che fa prendere il volo a tali paure o una fiamma che deve essere accesa con delicatezza altrimenti ti consuma sei sfrontato straniero è abile nel parlare dimmi cosa mi capiterà? ti taglierò i tuoi bei riccioli ti toglierò il tircio che ha nelle mani e ti chiuderò nelle nostre prigioni Dioniso stesso mi libererà quando io vorrò anche ora qui è accanto a me vedi ciò che soffro sei tu in più a non vederlo tu non sai come vivi che cosa fai chi sei? sono Penteo figlio di Agave e di Echione Penteo questo nome ti lega il pianto per destino guardie chiudetelo nelle stalle perché veda solo il buio mentre io renderò mie schiave le sue sacerdotesse sono pronto ma Dioniso ti punirà per questa violenza tu neghi che esista ma sto mettendolo in catene ascoltate la mia voce baccati cos'è questo che? dov'è il nostro signore Dioniso? vieni da noi io dal cubo e risbombo vieni dalle foreste delle montagne scivola fuori da una dama della bestia selvatica balza fuori da una danza vorticosa e rompi da mille in quersi e innalzati dalla valle silenziosa detta le catetere degli oppressori donano ripetando gli oppressi non devrai con torrenti di vino e lascia che non ci sarà esplode di noi di mio figlio di seme e zez di nuovo che terremoto divino presto il palazzo di Tentia sarà distrutto la terra terra scuociti terra volita terra gonfiati terra cresci terra muoviti terra deformati terra esplodi terra brucia terra apriti terra respira terra respira terra respira mi volete quel palazzo adoriamo anche in questo mi sono preso gioco di lui e Pentio credendo di legarmi non mi ha neppure sfiorato ma si è nutrito di illusioni avendo trovato un toro nella stalla cercava di gettare gli cordi intorno alle ginocchia e agli zoccoli soffiando radia grondando sudore del corpo immurtando le labbra coi denti ed io standogli vicino sedendo tranquillo lo guardavo poi scuoto il palazzo con un violento terremoto e sulla tomba di mia madre faccio divampare il fuoco e Pentio appena vede il fuoco credendo che il palazzo bruci si precipita di qua e di l'ordine alle farvi di portare acqua poi afferra una spada e si lancia dentro il palazzo allora crea un fantasma nel cortile e Pentio si avventa su quell'immagine e cerca di trafiggere l'aria luminosa convinto di potermi uccidere allora tutto va in rovina e Pentio lasciata cadere la spada crolla a terra infatti ha osato combattere contro un dio nonostante sia un uomo ed io tranquillo uscito dal palazzo sono giunto da voi senza curarmi di Pentio l'avevo catturato non poteva sfuggirmi eppure se n'è andato sono stato ingannato presto si chiudono tutte le porte della città oh Pentio che governi su questa città di Tebe veniamo dal Monte Citerone e quali notizie ci portate dopo aver visto le baccanti in preda al delirio desideriamo dire a te e alla città signore che esse compie nazioni straordinarie più che meravigliose ma vogliamo sapere se possiamo raccontarti liberamente i fatti che abbiamo visto o dobbiamo contenere le nostre parole infatti temiamo signore la tua irascibilità e il tuo animo troppo regale parlate perché da me non avrete alcuna pena non bisogna adirarsi con gli innocenti ma tante più cose terribili direte sulle baccanti tanto più duramente puniremo costui che ha insegnato a tagliarti alle donne poco fa su una rupe guidavo la mandra dei miei vitelli in pieno mezzogiorno e vedo tre tiasi di donne uno dei quali era guidato da autonoe il secondo da tua madre agave e il terzo coro da ino dormivano tutte col corpo rilassato alcune poggiavano la schiena sul fogliame di un abete altre su fronde di quercia a terra dopo aver reclinato il capo compostamente non come tu dici stordite dalle coppie di vino e dal suono acuto a cercare afrodite appostandosi nel bosco e tua madre gridò alzandosi in piedi in mezzo alle baccanti perché scutessero i corpi dal sonno appena sentì i mugiti dei buoi ed esse si alzarono in piedi giovani vecchie vergini ancora in nare delle nozze e avresti potuto vederle fare a pezzi le mucche avresti visto fianchi o zampe scagliati in alto e appesi agli abeti imbrattati di sangue e tori imponenti crollavano a terra spinti da miriadi di mani di fanciulle poi cominciarono a devastare tutto rapivano i bambini dalle case e se li coricavano sulle spalle senza bisogno di legami sui ricci portavano il fuoco ma non bruciava e per l'ira coloro che erano stati depredati dalle baccanti ricorrevano alle armi allora fu possibile vedere uno spettacolo terribile signore infatti agli uomini non si bagnava di sangue la lancia puntita mentre esse li forivano e li volgevano in fuga benché fossero donne contro uomini non senza l'aiuto di un dio e poi tornarono a quelle stesse fonti che il dio aveva fatto sgorgare per loro lì si pulirono dal sangue e i serpenti con la lingua lavavano via il sudore dalle guance e dal corpo pertanto questo dio chiunque egli sia signore accoglioli in questa città perché è grande in tutto e dicono che lui ha dato ai mortali il vino che placa gli affanni e se non c'è vino non c'è neppure Afrodite e nessun altro piacere per gli uomini si diffonde la follia come un fuoco che arde e ci contamina non perdete tempo daremo battaglia alle baccanti subire dalle donne ciò che subiamo noi oltrepassa la misura Pentio esci dalla regia e lascia che io veda vestito da baccante proprio te che vuoi vedere cose che non è lecito vedere mi sembra di vedere due soli una doppia tebe e anche tu che mi guidi mi sembri un toro un uomo e ora una donna tu vedi le cose che devi vedere somigli nell'aspetto a tua madre Agave ma uno dei tuoi ricci gli è andato fuori posto e ti si è allentata la cintura ho scosso tutto il corpo nell'estasi bacchica dovrò alzare la mano destra con il tirso e alzare il piede destro durante la danza come una baccante voglio lodarti la tua mente è cambiata prima eri folle ora sai come devi essere è arrivato sul citerone e sarai nascosto sotto gli apeti come deve essere nascosto chi spia con astuzia dei baccanti forse le catturerai se non sarai catturato per primo guidami attraverso la città di Tebe solo io ho il coraggio di usare ciò che io oso solo tu ti preoccupi per questa città e per questo subirei delle prove seguimi sono la tua guida qualcun altro te li porterai indietro perché tutti ti vedano tua madre Agave sì voglio avere ciò che mi spetta sei tremendo e subirai cose tremende ti guiderò verso una grande prova e il vincitore sarò io notte sopraggiungerà ancora quando ciò che sappiamo sarà compiuto cerco il sollievo di verdi colline serene e dell'aria molle di rugiada che bacia la mia gola notte notte libera cielo di mille capioni polvere suale di fuffano lasciami tavalcare liberamente trasportata dalle rivezioni danza notte dove il pugno è più profondo vieni alba nella danza del sole vieni alba messaggeri in nuovo ordine lascia che il nuovo ordine porti il pace lascia che il porti di volo abbondanza la calma di un dolce possesso di titola un uomo eterno dove il suo perio è in cruce notte notte libera lasciami dalla casa suona l'imparattata liberamente trasportata dalle reddine di colonna andate cagni veloci aiciate le figlie di calmo contro l'uomo travestito da donna che viene a spiare le baccanti sua madre per prima lo vede in grida chi è costrui che viene a spiarci i baccanti non è nato da famo e donna ma è figlio di una leonessa venga la giustizia armata di spada e trapassi la gola del mentio il mentio vuole vincere l'invincibile con la violenza indio c'è senza dolore nella vita di questi uomini limiti dell'umano venga la giustizia e trapassi con un colpo mortale la gola del mentio vieni vieni di ormico e sorridendo getta la legge di morte cacciatore del barcante mentre la legge del barcante deve morire è tremendo e stupia mani tremendo vieni di ormico a fare giustizia getta la legge di morte sul pentio pentio è un bene della morte che è la sua follia andiamo straniero potrei stare l'intero citerone su una spalla con le sue valli piene di donne a dispetto delle loro danze e della loro follia si è convinto a venire i miei baccanti preparate le sorelle figlie di carne agave accorre pentio abbraccia pentio con gioia che verità è questa che mostra di vicinità vomitata da una gorpione morente guardatelo mentre si trascina con un arrecchio di spiace tra animanti di passione corrotta la sua mente orrando le riti che sale alla cena proporando i riti del Dio la sua mente orrando i riti del Dio che alzare alla cera proporando i riti del Dio vieni per il vaso vieni col tuo servizio che uccide distrugge il maledico il figlio dei chiboli che rifiuta i guerini oh casa un tempo felice del vecchio Cadmo io piango per te che succede? che dici di nuovo sulle baccanti? pentio il figlio di Echione è morto grande Dioniso tu riveli la tua potenza divina cosa dici donna? ti rallegri per le sventure dei nostri padroni? siamo straniere e intoniamo canti barbari Dioniso non Tebe ha potere su di noi com'è morto Pentio quell'uomo empio dopo aver lasciato Tebe salimmo sulle balze del Citerone con Pentio il nostro padrone e lo straniero che ci guidava prima dunque ci sedemmo in una valle erbosa per vedere senza essere visti c'era una gola scoscesa ombreggiata da pini dove le baccanti sedevano con le mani intente a fare dolci lavori infatti alcune di loro coronavano di Edera e il Tirso altre cantavano a vicenda un canto bacchico e lo sventurato Pentio non vedendo la schiera femminile disse queste parole straniero da dove ci troviamo non scorgo le false baccanti ma se salgo su un alto pino potrei vedere chiaramente le loro azioni vergognose a questo punto ecco vedo il miracolo dello straniero afferrato un ramo di un pino alto fino al cielo lo tirava giù tirava tirava fino alla nera terra compiando opere non certo umane e collocato Pentio sui rami del pino con le mani lo lasciava andare verso l'alto senza scosse ma Pentio fu visto invece di essere lui a vedere le baccanti infatti Dioniso gridò fanciulle vi porto colui che si prendeva gioco di voi di me e dei miei riti su punitelo e mentre diceva queste cose sia nel cielo che sulla terra si diffondeva la luce di un fuoco divino tacco il cielo e in silenzio valle buscosa tenendo le foglie e non avresti potuto sentire un urlo di fiere le baccanti invasate dal delirio del dio iniziarono a correre le figlie di Cadmo erano folli e appena videro il nostro padrone seduto sul pino prima lanciavano con forza pietre contro di lui altre scagliavano i tristi con il penteo sventurato bersaio senza però riuscire a colpirlo e alla fine spezzando come fulmini i rami di quercia con i rami cercavano di scalzare le radici del pino poiché non riuscivano a portare a termine le loro fatiche disse Agave avanti afferrate il tronco baccanti per prendere la belva arrampicata lassù affinché non riveli i riti segreti del nostro dio ed esse innumerevoli mani avvicinarono al tronco e penteo cadde capiva infatti di essere vicino alla morte per prima la madre comincia il sanguinoso rito e balza su di lui ed egli si strappa via le bende dai capelli perché l'infelice Agave non la uccidesse e le dice sfiorandole una guancia madre sono tuo figlio penteo abbi pietà di me madre non uccidere tuo figlio ma essa emettendo bava e roteando le pupille stravolte era invasata da Dioniso e penteo non riuscì a convincerla lei afferrandogli una spalla facendo leva contro i fianchi gli staccò un braccio senza far forza perché Dioniso aveva dato destrezza alle sue mani su di lui infierivano lacerandogli le carni in autonuo e tutta la massa delle baccanti era tutto un grido lui urlava di dolore finché poter respirare mentre loro levavano grida di insultanza portava una un braccio un'altra un piede con i calzari erano messe a nudo le costole per le lacerazioni ognuna con le mani insanguinate giocava a palla con la carne di penteo è disperso ovunque il corpo parte sulle aspe rocce parte nel fitto fogliame della selva non facile ricerca la madre Agave ha conficcato la misera testa sulla punta del tierzo come quella di un montano leone e lo porta attraverso il citerone verso il palazzo di Tebbe invocando Dioniso compagno di caccia e glorioso trionfatore noi ce ne andiamo lontano prima che Agave giunga al palazzo portando in trionfo il suo scenobottino ma gli dei trovano sempre una strada misteriosa e inaspettata essere saggi e rispettare il culto degli dei è la cosa più bella ecco Agave madre di penteo che arriva a casa con gli occhi stravolti venite a vedere questa preda catturata a mani nude da noi figlie di Cadmo noi con le nostre mani abbiamo preso questa belva e l'abbiamo fatta a pezzi dov'è il mio vecchio padre? venga qui vicino e mio figlio Penteo dov'è? sollevi presso la casa una solida scala per appendere ai triglifi questa testa di leone seguitemi davanti al palazzo dove porto il misero corpo di penteo fatto a pezzi tra le balze del citerone ho sentito raccontare le imprese vergognose delle mie figlie quando ero già giunto in città col vecchio Tiresia lasciatele imbaccanti ecco cosa resta di mio nipote massacrato dalle mie figlie ino autonoe ed agave la sua infelice madre ecco io già la vedo spettacolo sceno padre ti è lecito vantarti moltissimo di aver generato figlie di gran lunga migliori fra tutti i mortali tutte le figlie ma a me soprattutto che ho lasciato le spole e il telaio e sono venuta in prese maggiori e cioè cacciare le belve con le mani porto tra le braccia come vedi questo trofeo perché si è appeso davanti alla tua casa e tu padre accoglilo nelle tue mani e fiero per la mia caccia invita gli amici a bancheri un dolore smisurato è insopportabile a vedersi avete compiuto un delitto con le vostre mani sciagurate orrenda sventura tua prima di tutto poi mia giustamente ma eccessivamente Dioniso ci ha distrutti pur essendo della nostra famiglia com'è fastidiosa la vecchiaia per gli uomini possa mio figlio essere un bravo cacciatore e somigliare a sua madre ma lui è capace soltanto di combattere gli dèi deve essere ammonito da te padre e qualcuno lo chiami perché possa vedere sua madre felice dai quando comprenderei ciò che hai fatto soffrirai un dolore terribile perché mi riproveri cosa c'è di così doloroso prima di tutto rivolgi il tuo sguardo al cielo è lo stesso cielo o ti sembra mutato è più luminoso di prima c'è un bagliore rosso di cramonto un bagliore di sangue e questo smarrimento è ancora nella tua anima non capisco le tue parole ma in un certo senso ritorno in me e la mia mente sembra sembra mutata dunque puoi ascoltarmi e rispondermi lucidamente in quale casa sei entrata con canti nuziali mi hai dato i chione che dicono sia nato dai denti del serpente e quale figlio avete generato con il tuo sposo penteo è stato generato da me e da suo padre di chi è la testa che hai tra le braccia di un giovane leone così dicevano le cacciatrici ora osservalo bene guardarlo ti costerà poca fatica oi me che vedo cosa porto tra le mani vedo me infelice un immenso dolore ti sembra che assomiglia un leone no io infelice ho in mano la testa di penteo chi l'ha ucciso parla e il cuore mi salta in petto per ciò che mi attende tu e le tue sorelle lo avete ucciso sul citerone invasate da dioniso mie misere mani che cosa porto tra le mie mani in quale modo sfogherò il mio lamento possa tu stesso concedermi figlio di rivolgerti la parola per l'ultima volta io che dopo averti messo al mondo non avrei mai voluto vederti fatto a pezzi dalla tua stessa madre un volto carissimo al quale spesso mi avvinghiai come ed era virgulti di quercia cari occhi e mia carissima bocca e nobile aspetto di mio figlio avrei preferito morire io piuttosto che vedere te morto dalle lacrime stillano lacrime che non hanno né misura né numero ho tollerato anche prima immense sventure figlio ma adesso il dolore è insopportabile Dioniso ci ha perdute solo ora lo capisco era stato offeso da voi non lo credevate un dio anche Penteo non ha onorato Dioniso e il dio ha avvolto tutti in un'unica rovina voglio abbracciare la carne di mio figlio che ho nutrito voglio nascondere sotto questo velo le sue la sua testa e le sue membra grondanti sangue e ora Carlo ti dirò la lunga serie di sventure che subirete Agave e le sue sorelle dovranno lasciare questa città che hanno empiamente profanato tu Carlo e la tua sposa armonica sarete mutati in serpetti se fosse stati saggi ora sareste pulici sotto la mia protezione siamo andati al di là del giusto ma tu ci hai punito troppo severamente agli dèi non si addice uguagliare gli uomini nel risentimento è stata l'ingiustizia che ho subito a causa vostra quando te e il mio nome non era onorato sangue sangue ovunque le foglie del citerone sono diventate rosse perché noi io non comprendo più le vie degli dèi la comprensione delle vie degli dèi è preclusa agli uomini chi più di noi può saperlo per troppi uomini il suolo di tebe ha dimostrato un odio crudele e spietato come se i denti del drago da cui tebe è nata ancora coltivassero la sua terra ricordi Kadmo quando ti dicevo che a tebe l'umidità trasudasse ad ogni passo sangue replicasti sangue le foglie del citerone sono diventate rosse ancora sangue Tiresia nient'altro che sangue no non è sangue è vino morte sono le forme del divino e le azioni degli dèi sono imprevedibili gli dèi trovano sempre una strada misteriosa e inaspettata gli dèi tornano sempre una strada misteriosa e imprevedibile e inaspettata a inaspettata Ok, eccoci ritornati in diretta. Vi ringrazio per il vostro lavoro e passo velocemente la parola a Salvatore Guadagnolo e a Enzo Darco per un commento con Livia De Domenici e con i ragazzi. Buonasera, grazie Ezio, grazie ai ragazzi e alla prof dell'Istituto Massimo di Roma, grazie per questo lavoro, questo bel lavoro, volevo parlare un po' con voi, ci sono i ragazzi prof? Sì, ci sono i ragazzi, salve e benvenuti. Ieri ho sentito la vostra professoressa piena di entusiasmo, credo che vi ha trascinato in questo almeno entusiasmo con la testa di pentio in mano. Allora, perché le baccanti? La prima domanda che mi è venuta spontanea, perché proprio le baccanti? Anche pensando, o meglio, perché le baccanti in questo periodo? Lascio la parola ai ragazzi, facciamo parlare ai ragazzi e dopo magari lei farà chiusa. Chi è, Edoardo? Chi è? Edoardo è il nostro anche videomaker? Salve, salve, allora, le baccanti è un testo molto particolare che ci ha coinvolto a tutti, ma la cosa che è stata più importante secondo me è stato il riadattamento che la professoressa ha fatto, infatti già le baccanti noi poi le abbiamo anche potute studiare in ambito scolastico, ma il riadattamento che la professoressa ha ottenuto per la nostra rappresentazione teatrale è coinvolgente. Secondo me, secondo me, anche attraverso video, quell'emozione che dà il testo greco è quella, è quella la forza del testo, dello spettacolo che ci ha coinvolti e che ci ha fatto scegliere proprio questa tragedia. Ma è una delle tragedie più forti, la professoressa lei mi può dare ragione su questo, dove si commettono i crimini più efferati. E come si trova un adolescente, un giovane rispetto anche ad una visione di questi crimini? Perché non voglio dire, non sto qui a dire come Euripide vede, però una domanda un po' così. Chi è Dioniso oggi, secondo voi? Speriamo con quante ne combina in questa tragedia, ma oggi chi può essere Dioniso? Ma allora, a me verrebbe forse una lettura molto figurata, però ritrovandoci in questa situazione oggi con qualcosa che noi non possiamo controllare e che ci opprime, mi verrebbe un po' da paragonarlo alla pandemia che stiamo vivendo Dioniso, come qualcosa che ci viene, cioè qualcosa che noi in un certo senso subiamo, ecco, nella tragedia capiamo ovviamente che la colpa è di Pentio, però in questo caso ecco, la crudeltà con il quale queste azioni vengono compiute, io la ritrovo molto nella sofferenza che noi oggi stiamo vivendo. Ecco, esatto Edoardo, era un po' quello che volevo sentire perché questa sofferenza, almeno mi è sembrato, avete cercato proprio anche di esasperarla, di far venire fuori, sembrava che c'era, al di là delle, secondo me, ottime inserzioni sia del testo di Gregorio D'Anziano, che io non conoscevo, mentre mi ha fatto molto piacere che i ragazzi conoscono, io penso, il più grande drammaturgo e poeta, non solo africano, insomma, del Novecento, perché è da leggere, i ragazzi dovrebbero leggere perché è eccezionale, è meraviglioso, però al di là di queste, come devo dire, in sezioni giuste, dal punto di vista drammaturgico, questa vostra forza scenica, ecco, questa forza, questa vis, insomma, era molto molto presente, sembrava che volevate dire ancora di più, no? Cioè, era un qualcosa che dava una certa, c'era addirittura quasi una rabbia, no? Io poi fantasticavo e la riportavo alla rabbia che un po' tutti quanti noi, no? Abbiamo vissuto in questo periodo e il teatro ci, in che misura, insomma, ci può, o questa rappresentazione ci può aver aiutato, sì, ci ha aiutato in questo senso. Edo, fai parlare Marco, fai parlare un attimo Marco, Edo, ti sono. Sì, sì, diciamo che lei ha centrato uno dei punti fondamentali, ovvero la rabbia. Una delle cose più interessanti, almeno per me, e scommetto anche per i miei compagni, è stata analizzare come ogni personaggio non fosse da solo, diciamo, c'è sempre una dualità, non solo menadismo bianco e menadismo nero, di ogni suo uomo, donna, di ogni suo buono e di ogni suo cattivo, ma anche, sempre riportando la rabbia, lo stesso Penteo. Penteo ne ha avuto la prova quando, facendo appunto le battute, ogni volta la professoressa mi interrompeva perché diceva che doveva aggiungere un'altra emozione, c'era sempre qualcos'altro, cioè magari la battuta doveva essere sarcastica, ma c'era sempre qualcos'altro dietro. E quindi tutte queste emozioni che prova Penteo, questa probabile sua insicurezza, il fatto che vuole affermarsi come autorità, vuole prendere il suo posto prima di esserselo meritato, all'inizio si dice appunto che fosse stato un errore mettere Penteo al potere, ma tutte queste sue emozioni che sono incommunicabili, alla fine vengono fuori sotto forma della rabbia, quindi dell'urlo, della violenza, della razionalità estrema che porta quasi a un'irrazionalità. Quindi è proprio questa, è stata la forza, la vis, come ha detto lei, che viene fuori in questa tragedia. E' una tragedia Marco senza speranza? Senza speranza sì, perché in fondo alla fine si vede che addirittura gli dèi, addirittura le figure che noi abbiamo venerato così devotamente non è che ci tradiscono, ma ci mostrano un loro lato che è completamente diverso, un loro lato che noi non ci siamo mai immaginati e che anzi temiamo e per cui proviamo quasi disgusto, da cui vogliamo allontanarci. Quindi forse il tradimento, il cambiamento è proprio lì, la mancanza di speranza. Anche Elisabetta, che è la corifea, ha provato a dare, a suonare tutti i tasti del pianoforte metaforico e cioè strega e al contempo un'infa. E' stato molto particolare, è stato un esperimento, diciamo. Sicuramente credo che incanalare tutta la rabbia di un periodo così particolare abbia aiutato parecchio, però effettivamente c'era un doppio molto presente tra un menadismo bianco potremmo dire, ma proprio anche una tranquillità e le coreote dicono la tranquillità di un dolce boschetto che ti pulla, che noi vorremmo tutti i giorni e poi all'improvviso la rabbia più totale. È stato un esperimento molto importante, sicuramente anche perché effettivamente diciamo che una tragedia di questo tipo non la viviamo proprio tutti tutti i giorni, non capita tutti i giorni di uccidere un uomo, però diciamo che ha ripreso tanta rabbia di un anno e mezzo di pandemia. Non so se ti ricordi, ieri c'è stata una discussione sul teatro di impegno civile, il teatro di impegno sociale eccetera. Io credo che la funzione catartica di questa, che poi la professoressa ve lo può spiegare meglio, del teatro classico, del teatro greco in particolare, il buttare fuori che poi hanno riscoperto dopo duemila anni, insomma nel novecento, e tant'è vero che nel novecento ci sono state altre riscritture delle tragedie, tra cui anche una bellissima, appunto quella di Volicio Link che è meravigliosa, insomma, delle baccanti africane. Ecco, si è arrivato soprattutto questo, questo desiderio di buttare fuori, di cacciare tutta questa, chiamiamola rabbia, ma è un insieme anche più complesso di stati d'animo che venivano fuori anche dai vostri corpi e anche dalle vostre staticità, insomma, anche se stavate fermi eravate sempre in movimento, c'era sempre questo frullatore incredibile di… ecco, io vi rimando da spettatore in effetti, no? Quello che può essere arrivato. Cioè, proprio sai quando vedi… quando stai in un'apnea non riesci poi più ad uscire, insomma, no? Quell'ansia, quella cosa che ti muovi e sbatti come in cerca di ossigeno. Quindi vi volevo solo riportare, perché mentre lo vedevo, anche questo io l'ho visto due volte, adesso l'ho visto per la seconda volta, mi veniva in mente io ho visto un'operazione simile fatta da un gruppo di donne detenute. Quindi immaginate la situazione, no? queste detenute che… cioè già baccanti di senso, insomma, e veniva fuori, no? Questa rabbia, no? Questo… però ecco, cosa ho notato in voi? Che c'era come se non ci… c'è… come se ci fosse una consapevolezza, ecco, ve lo volevo dire, ve lo volevo riportare un piccolo ritorno, come se fosse un passaggio necessario, no? Questo andare in un frullatore di emozioni molto… a volte, insomma, falsamente controllate, insomma, era questo, insomma. Vi volevo ringraziare perché, vedete, si può dire di tutto, ma che non ci sia la vostra forza, la vostra energia? Da quelle poche parole che mi state dicendo, credo che sia stata anche un'esperienza gratificante. Cosa vi lascia le baccanti? Guardi, se posso dire, nelle note di regia c'è scritto che ci sono anche i giovani ex-alunni, io sono una dei giovani ex-alunni, ho fatto la maturità nel 2020 e non ho mai avuto un ultimo giorno di scuola, ho lasciato la scuola così. Quindi, da una parte, tornare a fare le baccanti anche quando siamo tornati in presenza è stato veramente emozionante, rivedere la scuola, i miei amici e tutto quanto. Dall'altro mi ha lasciato, diciamo, la sensazione che, a differenza proprio di questa tragedia in cui non c'è speranza in nessun modo, in realtà nella vita ci può essere speranza, esattamente come ho rivisto la mia scuola, ho avuto il mio ultimo giorno di scuola, ho concluso anche questo di percorso alla speranza di ricominciare una vita normale e tutta quella rabbia che avevo incanalato da marzo del 2020 all'improvviso ha avuto anche un senso. È stato un po' il tuo vero esame di maturità, forse? Sì, certamente. Complimenti, complimenti a voi ragazzi, complimenti alla professoressa, alla quale volevo chiedere perché proprio vuole su Inca e questo testo particolare? Perché proprio loro? Io conoscevo vuole su Inca, peraltro volevo dire che siamo in due docenti ad aver elaborato testo e regia, c'è anche Bianca Maria Tumarello che non so se in questo momento è presente, eccola, eccola lì. Ecco, vuole su Inca appunto mi dava la sensazione di voler rendere questa antiteofonia che è appunto le bacanti, la tragedia della separazione, la tragedia dell'annullamento, della scena vuota di Dioniso che va via di un cadavere a pezzi, l'unica cosa che rimane sulla scena. Ecco, ho avuto la sensazione che invece vole su Inca, dicendo no, non è, non è sangue, è vino, è vino, come dice Tiresia, volesse esprimere quella parola di speranza a cui faceva riferimento Betta prima e poi è una citazione naturalmente diciamo della comunione, è naturale, ecco perché il Christus Patiens nel lamento di Agave sui resti del figlio, però vole su Inca con quei sabba che poi purtroppo voi non avete potuto vedere tutto perché avete visto metà tragedia, cioè lo Sparagmos non riguarda soltanto Penteo, ma riguarda anche la tragedia, ecco, e gli altri cori che abbiamo tagliato proprio vertevano su questa, a volte animalità, a volte soavità di queste fanciulle bellissime poi alla fin fine e per cui diciamo che Bolli su Inca incide tanto sull'idea di condivisione, comunione, superare la separazione, perché questa è la tragedia della separazione, è una mattanza questa tragedia, è una mattanza, io ho trovato che l'africanità di Bolli sui Inca, digeriano sapete, peraltro difensore dei diritti civili, premio Nobel per 1986, potesse dare un senso anche a noi che abbiamo tradotto e abbiamo scritto la sceneggiatura, non so se Bianca vuol aggiungere qualcosa. Sì, a conclusione rapidissima voglio aggiungere che oltre all'intervento degli ex alunni di cui parlavano Betta, Marco e Edoardo, c'è stata una collaborazione anche trasversale all'interno dei licei, cioè è verissimo che questa tragedia sia stata poi anche studiata dai ragazzi del quinto classico che la porteranno agli esami di Stato, però il pasto parola ha funzionato in maniera tale che ad esempio la testa che è stata assolutamente iconica per questa tragedia è la realizzazione di un gruppo di ragazzi del liceo scientifico che ha seguito in maniera molto precisa le nostre indicazioni. Le corone dall'oro sono state frutto di una collaborazione esterna coordinata da Betta Borsini perché eravamo in ritardissimo con i tempi, quindi al di là sicuramente del valore letterario indiscusso di un testo che ricava la sua eternità dal soffermarsi su temi che ancora oggi risultano di estrema attualità, io credo che l'altro portato importante di questo spettacolo sia stato per la nostra scuola sottolineare un senso forte di appartenenza, cioè il laboratorio teatrale non è stato soltanto di coloro che hanno seguito il copione e si sono impegnati in questo, no, c'è stato un coinvolgimento di tutti con grande generosità e disponibilità e questo mi sembra un ottimo messaggio. No, devo dire la verità professoressa che a me che vado girando, andavo, girando l'Italia a guardare che teatro si fa nella scuola italiana, non mi può che rendere felice quando queste relazioni non sono solo il frutto di un insegnante con un gruppo oppure l'insegnante e il teatrante è un gruppo, ma quando è veramente una scuola che è a disposizione del laboratorio teatrale, credo che quello è il modo, io la chiamo la scuola creativa, cioè quello è il modo di fare scuola, non è che avete fatto un laboratorio, avete continuato a fare scuola in un'altra maniera e ognuno mettendo la propria volontà, la propria competenza anche. Però proprio una piccola domanda alle prof che non le guardo come prof in questo momento, riguarda come colleghe, cioè le registe, perché stiamo cercando di capire che l'operazione proprio da un punto di vista pedagogico, della scuola io la trovo egregia e di esempio, proprio attraverso il teatro, ma volevo fare proprio da regista a regista, non è un po' troppa roba, cioè nel senso, è quello che io vedo spesso nei lavori fatti bene dagli insegnanti, io riconosco, devo dire ormai dopo una certa età, in certi lavori, questo è un lavoro dell'insegnante, che conosce i tratti della regia, del teatro eccetera, ma come devo dire è la deformazione professionale, quello di dover far comprendere e di dover mettere così tanti elementi e troppo, io l'ho percepito però il teatro non si può vedere in questa maniera, quindi è solo una sensazione, vorrei vederlo dal vivo, vorrei vederlo per intero eccetera, però è una sensazione, nel senso che è una domanda proprio di ordine tecnico, proprio di teatro. Ecco, se posso rispondere, citando Mimma, Mimma prima diceva recitare è citare parole di altri, mentre invece ecco il teatro è vivere nel proprio corpo, questo per noi non è stato possibile, ecco perché abbiamo aggiunto parole, noi abbiamo fatto quattro prove in presenza, fare teatro in MIT vuol dire ecco la staticità, certo, abbiamo fatto il tampone noi per andare in scena, ci siamo visti per la prima volta senza mascherina il 10 maggio, abbiamo sempre recitato in MIT e le quattro prove con la mascherina, la staticità dovevamo mantenere un metro l'uno dall'altro e quindi c'era un conflitto tragico anch'esso, tra quelle che erano le sacrosante norme anti Covid e quella che era l'esigenza di muoversi, di agire, di recitare col corpo e con l'anima, ecco perché questa staticità, questa tragedia doveva andare in scena con solo una parte di questo cast lo scorso anno, abbiamo ripensato tutti i movimenti, le baccanti erano l'idra di Lerna, erano un mostro a più testi, si toccavano, stavolta non era possibile, quindi di fatto questa staticità che giustamente tu hai potuto sottolineare e con cui noi siamo totalmente d'accordo, nascete da questa esigenza di allontanamento, di separazione, allora abbiamo dovuto incentivare lo sguardo, la teatralità, la voce, ecco troppo, sì troppo, troppo perché non c'era il cordo. Sì sì, no no, questa è chiara, hai risposto esattamente, anzi hai detto anche giustamente di più, insomma di quello, è chiaro insomma, adesso mi era chiaro prima, però appunto volevo una conferma di questo, cioè diciamola francamente, senza il Covid con i più momenti a disposizione sarebbe uscito un altro tipo di prodotto, mantenendo questa forza, questa rabbia, questa cosa, questo ecco semplicemente volevo, avevo intuito ma volevo una conferma. Posso dire una cosa ancora senza farvi perdere troppo tempo che siamo in ritardissimo, un plauso a Edoardo Mungardini che ha girato tutto, ha montato tutto, poi ha tagliato, ha aggiunto le musiche, ha fatto un lavoro e fra tre giorni ha la maturità, come del resto anche Marco, e quindi questo proprio va detto, ecco come questa testa è stata fatta con la stampante tre dito, ragazzi dello scientifico, Marco veramente è stato in questo, non lo so, oblativo, anche lui in Sparagboss. Grazie, io ho dovuto vedere la mia testa passare di mano in mano, grazie mille, grazie veramente. Senza vuole dire qualcosa? Ci sarebbero tante cose da dire, ma veramente mi fermo, mi taccio, mi autocensuro, mi piacerebbe parlare un po' del valore della libertà con i ragazzi in relazione al teatro, ma penso che veramente siamo in ritardissimo, oppure se ce la fanno, dirmi una battuta a volo, veloce, loro in che modo hanno, come dire, si sono incontrati con questo valore alto della libertà che contiene il teatro e a maggior ragione il teatro a scuola, il teatro fatto dai ragazzi. Guardi, teatro è sempre, quando lo facevamo in presenza prima che succedesse quello che è successo, la pandemia e così via, la professoressa ci diceva sempre, ci faceva sempre fare degli esercizi per scioglierci e una frase costante che mi ricordo diceva era sempre lasciate da parte ciò che è successo a scuola, ciò che succederà domani, la verifica di domani, l'interrogazione di oggi, qui non conta, il teatro era come se fosse sempre un universo a sé stante, non eravamo a lezione di teatro, eravamo proprio a teatro, una volta che qualcuno parcava a quell'aula doveva lasciare tutto quanto indietro e concentrarsi solamente sul teatro e questo penso che ha aiutato a formare moltissimi legami, soprattutto con, quando appunto facevamo in presenza, legami tra di noi e un'atmosfera bellissima, un'atmosfera anche di concentrazione spesso, in cui noi ci concentravamo sul teatro, non c'era nessuna preoccupazione, c'è chi di noi aveva il compito di matematica il giorno dopo, chi avrebbe dovuto studiare quando sarebbe tornato, però quei momenti erano proprio piccoli momenti di libertà. Grazie, va bene, grazie, grazie. Grazie allora soprattutto a Edoardo che a proposito di libertà è libero di stare qui, anche se dopo domani ha l'esame di maturità di gruppo, va bene? Grazie. Grazie a tutti, grazie mille. Grazie, grazie a voi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi, adesso passiamo davvero con l'ultimo spettacolo, lo spettacolo dell'Iceo Cagnazzi, degli uccelli di Aristofane. Buona visione. Ascolta, ascolta, amiche mie, lascia il tuo sogno, cantami ancora quell'aria che sai, il canto che tu insegni non è brama o appello per aver potere infine, cantare è esistere. Ma quando noi esistiamo? Quando col tuo respiro commuovi anche gli dèi che vengono e accompagnano il tuo lamento triste e noi staremo sempre inerti ad ascoltare il vostro suono insieme. il soffio degli dèi diventa altro respiro, come sperare a nulla, un soffio, un vento, un'aria. Un soffio, un vento, un'aria. 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 A presto 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 perché se l'avessero recitato in greco sarebbe stato anche più facile, nel senso non mi guardare male, perché c'è il ritmo, ma nella traduzione si trattava di imparare una parte non facile. Quindi a tutti grazie e approfitto per salutare Salvatore Guadagnolo, Loredana Perisinotto e tutti i miei colleghi che hanno partecipato a questa rassegna in questa forma e siamo stati insieme benissimo per tutto il tempo. Adesso passiamo la parola a Salvatore Guadagnolo per il suo, dimmi Salvatore. Ciao Anna, che ho visto indaffaratissima in questi giorni, bravi ragazzi, bravi complimenti. Grazie Complimenti per… io faccio, non so, voi avete eseguito, ragazzi siete stati molto bravi, c'era quella leggerezza e quella profondità e quella poesia. Ma faccio un po' la domanda che io… abbiamo vissuto e viviamo, spero sia per finire, questo momento particolare. Allora era proprio la domanda, questo momento e gli uccelli, no? Cioè la pandemia e gli uccelli. Non sapevo, io tra l'altro quando ho visto il film Pinocchio ho visto questo posto e dopo sono andato a vedere dove era e non sapevo che era quello, insomma, che nel film di Garrone è meraviglioso, ma appunto anche nel vostro filmato è stupendo. Io ho interpretato questa commedia come un modo anche per liberarsi anche dallo stress, dall'ansia, da qualsiasi sensazione negativa. provocata da quest'anno è stata anche un'occasione per vedere altri ragazzi, per stare all'aperto, per poter fare qualcosa di nuovo, non stare sempre qui a casa e vedere questi… al posto di vederlo sulla tv parlo io proprio, quindi ho interpretato questa commedia in quest'anno così, come un modo per liberarsi, per fare una battuta, per volare dai pensieri. Quindi io l'ho interpretata come un'evasione dai pensieri. Poi è la prima mia esperienza e mi piacerebbe rifarla. E poi voglio dire, prego Enzo o Lorenana se vogliono fare domande anche ai ragazzi. Io credo che ci sia un valore aggiunto rispetto agli uccelli che ho visto, ne ho visti tanti, fatti anche dai ragazzi. Un valore aggiunto in questo set particolare. Immaginatelo adesso in un teatro, questo stesso spettacolo. Non pensate che venga… cioè che il posto vi ha aiutato tantissimo e il teatro potrà perdere. Mettiamo che domani si apre il teatro, come si chiama dal camore, il mercadante e potete farlo lì. Senza interpellare Alessandro, come lo immaginereste? Diciamo che comunque il paesaggio bucolico ha anche aiutato, dato che gli uccelli esprimono proprio la libertà e l'ambiente aperto. Quindi magari sarebbe stato limitato farlo in un teatro, quindi diciamo che la situazione ci ha anche più o meno aiutato. Però alla fine forse farlo all'aperto ci ha anche portato un po' alla normalità. Comunque noi abbiamo fatto i tamponi e tutto il resto, quindi è stato fatto in sicurezza. Quindi è stato un momento di normalità in questa situazione cuba. Bene, bene. Un'ultima domanda, poi passo ai miei colleghi. Il testo proposto, l'elaborazione, appunto io ero d'accordo con la professoressa, in greco forse era più facile come ritmo, in questo posso essere d'accordo, c'è più musicalità. Però va bene, non è questa, è una questione di gusto. Però rispetto a quello, sapete insomma, sicuramente la professoressa ve l'ha detto, che cosa vuole dire, che cosa ha voluto dire Aristofane con quest'opera, che cosa, qual è, chiamiamolo messaggio, lo dico in una maniera più semplice, più diretta, insomma, però che cosa vuole esplicitare, no? Secondo voi ci siete riusciti, cioè qual è proprio il focus, no? Di quello che, cosa avete voluto dire in quella situazione anche, in quell'ambiente? Sì, diciamo che il messaggio di Aristofane è proprio quello dell'utopia, quindi dell'evasione dal contesto cittadino in questo caso, fino ad arrivare ad un'utopia, quindi ad una città ideale. Quindi possiamo anche reinterpretarlo nella nostra situazione, come un'evasione da questa situazione appunto del Covid, che appunto questo teatro ci ha garantito proprio questa evasione, fino ad arrivare ad un momento di normalità che sogniamo di raggiungere presto. Ok, voi siete gli uccelli, qual è la vostra città ideale? Prima di tutto probabilmente una città senza Covid, però credo inoltre come città ideale, anche una città, credo che sia anche stato il messaggio di Aristofane, ovvero una città pensata fuori dagli schemi, una città di immaginazione, una città di stravaganza, una città piena di gente estrusa, senza limiti, senza canoni, è effettivamente forse una città a cui noi dovremmo aspirare, soprattutto adolescenti quali siamo, quindi credo effettivamente sia stata eccellente la scelta di Aristofane, perché non soltanto è un ritorno alla normalità, diciamo l'immaginazione dell'utopia della nostra città, ma è anche un modo d'espressione della nostra immaginazione, della nostra creatività, sia con la costruzione dei costumi, ma proprio Aristofane ci dice di cercare un posto fuori da te nel quale sia giusto per noi, e non, diciamo, sì, limitarci ai canoni delle città, diciamo dei posti in cui viviamo. Di cemento, sì, quindi... E tra le nuvole. Esattamente, quindi credo sia stata meravigliosa la scelta proprio degli uccelli di Aristofane, è la nostra città immaginare, la nostra città dell'utopia, è appunto il posto che ognuno desidera, in cui ognuno desidera di vivere. Bene, bene, grazie. Enzo, se vuoi dire qualcosa, chiedere qualcosa ai ragazzi, Loretana? Sì, velocemente, velocemente, velocissimamente faccio una domanda anche ai ragazzi. Come avete fatto per diventare uccelli? Che percorso avete fatto? Per sentirvi uccelli? Beh, prima di tutto ci siamo impegnati al massimo per fare dei costumi che rispecchiassero gli uccelli anche in modo informale, quindi utilizzando vari materiali tra cui la stoffa e cartoncino per le maschere e abbiamo utilizzato poi per i vestiti pantaloni e gonne e anche magliette colorate e che imitassero i movimenti ideali e che forse simboleggiavano anche la libertà e che esternassero ancora di più la stravaganza dei movimenti e della fantasia che si trova nella città utopica degli uccelli e anche questa libertà lì fuori dei canoni e anche nel vestiario. Va bene, va bene, grazie. La domanda che Ezio ha fatto probabilmente poteva anche indicare un esercizio psicofisico per che ciascuno anche facesse il suo personaggio, sentisse il suo luccello e non soltanto attraverso il costume, attraverso... E io vi posso dire che ad un certo punto c'è stato un momento proprio dello spettacolo della ripresa in cui mi siete sembrati forsennati, cioè c'era talmente tanta energia in queste braccia che mi sono detta adesso volano. Allora, dico questo pensando che tutte le cose belle che avete detto, soprattutto su questa città che dovrebbe anche essere un po' abitata da poeti, da matti, da giovani, da artisti, è una città molto teatrale e noi sappiamo che il teatro ha le sue regole e anche voi attraverso il percorso che con i vostri insegnanti, con i vostri operatori avete fatto, credo che abbiate poi, e se visto anche nella coralità dell'insieme, abbiate messo in pratica anche questa legge di natura, perché accanto ai doveri ci sono i piaceri o viceversa, accanto ai piaceri ci sono i doveri e le regole. Il teatro è una grande prova di esercizio di regole. Grazie ragazzi. Loredana, volevo aggiungere che in effetti si è anche fatti da parte dei ragazzi uno sforzo di immedesimarsi, perché poi Aristofane è bravissimo in questo, lo sappiamo, con le sue onomatopee, i nomi parlanti, quindi il verso del lupo, pupa e poi quel lungo elenco divertentissimo dei vari uccelli, che ora ce lo ripete Nicolò, faceva tutta un elenco di uccelli il francolino e l'altro il cardellino e il fringuellino, cioè ognuno poi, poi ce lo devi ripetere adesso Nicolò, e comunque ognuno poi si è immedesimato non solo con l'abito ma anche con il volo, con lo sbattere d'ali e con l'impostazione della voce, cosa non facilissima che è stata conquistata molto dopo dopo aver imparato il testo perché la memoria è fondamentale perché se non possiedi la memoria sei dipendente dal copione tu non ottieni un bel nulla quindi all'inizio con il testo con il telefono era difficile quindi fondamentale è stata la memoria subito dopo è partita poi tutta la la parte dinamica quindi Nicolo ci ripeti l'elenco degli uccelli il porfirione il pellicano il pellichino la flesside la grandule il pavone la zavola la capinera e la cinciarella cinciarella di luna ho capito bene c'era la flesside tra l'uncunzio l'uccello sì se posso aggiungere una cosa credo che anche appunto essere coperti dalle maschere sia stato un aiuto nell'immedesimarsi perché dietro una maschera si può essere chiunque non ci sono i canoni che ci sono ovviamente nella società di oggi quindi si va diciamo ad annullare la persona che c'è dietro la maschera creando un personaggio a parte quindi quindi credo che anche questo abbia aiutato molto in questo periodo anche molto difficile a immedesimarsi proprio nella nella commedia bene noi abbiamo finito Ezio se ci sei grazie Anna grazie ai ragazzi sì eccoci grazie a voi ora procediamo procediamo alla premiazione allora ci avviamo adesso al momento conclusivo della giornata passando la parola alla professoressa Mimma Bruno che potrà accogliere gli eventuali interventi Erasmus dei partner a cui seguirà poi la premiazione del logo e della rassegna grazie a voi grazie grazie io sono stavo controllando chi dei partner ci fosse ancora io non riesco neanche a vedere insomma perché ci sono dei nomi che forse sono i nomi dei ragazzi chiederei ai colleghi collegati eventualmente di intervenire subito per se vogliono appunto ci vogliono dirci qualcosa a conclusione di due giornate di tre giornate ma nella prima hanno potuto intervenire certo in queste le altre due giornate e insomma la parola è stata data completamente alla rassegna ai lavori presentati appunto per queste giornate quindi mi rendo conto che alcuni non hanno non hanno avuto la possibilità di rimanere fino a quest'ora forse c'è Giorgio il collega greco ci sei Giorgio? c'è anche Antonella benissimo allora vi passo la parola per quello che volete dirci una parola solo congratulazioni a tutti voi una bella rassegna una bellissima organizzazione da parte vostra tutto qui noi vi ringraziamo eravamo oggi veramente un po' così un po' pensierosi rispetto al fatto che vi impegnavamo per tante ore davanti al video perché io per esempio sono andata e venuta e gli altri colleghi sono tutti in presenza lì ad Altamura i ragazzi pure vi ringraziamo anche per questa maratona per averci seguiti e ci diamo appuntamento oltre al fatto che è sicuro che l'anno prossimo dovremo essere tutti lì in quella sala oltre che nell'atrio della scuola come ha ricordato il preside oggi e ti abbracciamo Giorgio tu e tutti i ragazzi va bene grazie Antonella sì Mimma ecco buonasera a tutti ti abbracciamo sì anche io come Giorgio ho solo due parole per salutare tutti ringraziare ovviamente gli organizzatori e i ragazzi di ogni paese che sono stati veramente fantastici parlo a nome dei miei colleghi anche che hanno veramente assistito a degli spettacoli incredibili e che mi hanno scritto in privato perché effettivamente allora i nostri ragazzi sono piuttosto principianti in materia però i miei colleghi in particolare sono rimasti veramente affascinati dall'alto livello appunto di alcuni gruppi e poi dai temi scelti dalle opere scelte che oltretutto ci hanno veramente dato tante tante idee per il prossimo anno e quindi grazie a tutti e grazie grazie anche per la pazienza degli organizzatori dei colleghi che sono stati dietro le quinte in questo periodo e che hanno assicurato il funzionamento totale di questa rassegna di questo evento veramente molto ricco e molto bello Sì è stata una vera sfida perché organizzare questi tre giorni dietro un gran ma anche proprio il rischio che anche la parte tecnologica non funzionasse a dovere invece dobbiamo dire che nonostante le sbavature dell'orario ma tutto il resto mi sembra che abbia funzionato bene Sì è funzionata benissimo quindi grazie a tutti e alla prossima spero che la prossima sarà in presenza in effetti Sì tra l'altro sentite la collega parla perfettamente italiano perché è italiana e qui viene e salentina quindi ecco doc la ti aspettiamo Antonella mi pare non ci sia nessun altro perché vedo degli altri nomi non so Sara Garcia Perez ma probabilmente è una studentessa non so se è un insegnante dei nostri no dei nostri due dei miei colleghi sono andati via poco fa mi hanno vertigliato no no parlavo degli altri paesi della Polonia e della Spagna va bene grazie una parola ad Alessandro allora perché è pur sempre il nostro partner Alessandro non c'è più? no non c'è più Alessandro Fiorella va bene allora vi ripasso la parola salutiamo è arrivato Alessandro Alessandro come partner dei sui palchi di scuola stavamo chiedendo un saluto o anche un feedback insomma sulla rassegna che stiamo per chiudere è stata una maratona però è interessante perché stare dalle 4 insomma alle 21 penso che alle 22.30 sia stato veramente impegnativo per tutti e devo dire che insomma non tutti sono riusciti ad arrivare alla fine della maratona perché si sa che insomma qualcuno cede però è stata un'esperienza bellissima devo dire che faccio i complimenti adesso senza non ho un ruolo chiaramente giudicante non voglio averlo ma faccio ci sono stati gli spettacoli veramente di alto livello di alto profilo con delle idee secondo me veramente intriganti interessanti adesso ripeto non faccio nomi perché non mi piace lasciare indietro nessuno quindi è stata un'esperienza un'esperienza per me straordinaria anche nella costruzione del rapporto che ho avuto con i miei ragazzi di Assuni ma anche con i miei ragazzi del Tamura perché la costruzione ecco una cosa che volevo dire sugli uccelli così molto velocemente senza annoiare più nessuno perché i tempi che forse non tutti sanno che intanto che questi uccelli perimetrano la scena del loro movimento come voler disegnare i delicati equilibri della democrazia però la cosa forse che non tutti sanno c'è stata un'opera scritta da un persiano Farid Attar un'opera di un poema di 4500 versi che si chiama il verbo degli uccelli il congresso degli uccelli e c'è l'upupa e c'è l'upupa e c'è anche il simorg la ricerca di un dio la ricerca del verbo la ricerca l'ha scritto un persiano un mistico sufi un derviscio e l'ha scritto molto tempo prima della commedia di Ristofana che è del 414 avanti Cristo e con questo voglio solo dire che come anche le contaminazioni erano normali anche nell'età antica nell'età arcaica e fluivano dal luogo all'altro da oriente occidente al di là anche delle coordinate geografiche grazie ed è un modo migliore per salutare i colleghi europei allora e per darci appuntamento a più presto vi abbraccio tutti e in parola a Salvatore o no Loredana mi sembra che debba parlare sì ci sono state tanti tanti stimi Loredana Loredana scusami solo un secondo dobbiamo solo devono solo dire una cosa ai ragazzi ti do subito la parola proclamiamo adesso la vincitrice del logo Erasmus Clara Fernandez è vero però Elena non c'è più proclamiamo la vincitrice del logo Erasmus Clara Fernandez per un Loredana passiamo la parola a Loredana Persinotto io Loredana Persinotto va a parlare che diser è stata una cosa meravigliosa meravigliosa grazie grazie a tutti per gli stimoli per il valore pedagogico che ogni lavoro che abbiamo visto è riuscito a superare la prova del confinamento bisogna dire che quest'anno circa l'88% delle rassegne di teatro della scuola secondo i dati che abbiamo raccolto come agita attraverso la rete delle rassegne hanno avuto un'ulteriore battuta del resto perché i laboratori non sono potuti partire la rassegna di Altamura ha rappresentato un presidio di continuità di notevole interesse ogni scuola ha presentato il proprio percorso superando difficoltà enormi e paradossi inconciliabili con la linea del fare teatro in ambito educativo e ha messo anche in crisi lo diciamo perché essere giurati è una responsabilità ha messo anche in crisi proprio per la passione che abbiamo letto in tutti i lavori anche la giuria stessa il mezzo comunque si è rivelato anche non un ostacolo o non soltanto un espediente tecnico per riuscire a comunicare a distanza ma il mezzo effettivamente ha fatto sì che la scuola desse prova di creatività di come dire di popolare quella città utopica di cui abbiamo sentito anche parlare prima quindi direi a questo punto avendo anche il bando della della rassegna delle ceo Cagnazzi il bando contiene anche un omaggio chiamiamolo così ad un percorso pregherei allora adesso Salvatore Guadagnuolo di dire qual è stato il percorso senza come dire ribadisco veramente la difficoltà di a partire da e quindi tutta la nostra passione e la nostra complicità anche nelle cose che ci avete regalato Salvatore grazie solo aggiungere che la passione nostra io so dalle 4 al computer non è che sono molto stanco perché non mi avete stancato insomma non mi hanno non mi ha stancato vedere vedere queste cose una più più interessante più poi voglio dire avere avuto questo ruolo di poter parlare con voi con ragazzi con i docenti per me è molto per noi tutti è molto è molto importante quindi abbiamo pensato e abbiamo finito pochi minuti fa di scrivere per ogni scuola per ogni percorso di scrivere un ritorno non è un giudizio non diamo giudizio non diamo valutazione ma una visione da parte nostra del lavoro che avete svolto che vi potrà io spero vi potrà essere utile e comunque appunto il bando essendo una rassegna a premio prevede comunque di segnalare un percorso e noi abbiamo scelto poi leggo magari anche la comunicazione con molta fatica però abbiamo scelto il liceo classico musicale Cavour di Torino con lo studio sulle lettere di Sofocle vi leggo la motivazione che abbiamo finito di scrivere da poco interessante rilettura del personaggio di Lettra dilaniata tra dolori e conflitti evidenziata da una drammaturgia testuale i cui riferimenti classici ben si calano nell'attualizzazione della storia al nostro tempo Lettra donna determinata secondo la tradizione Sofoclea si trasforma in un adolescente che nonostante l'inquitudine dell'età porta con sé un'energica personalità e ribaltando l'idea che l'adolescenza sia un insieme di ibridi e confusioni porta avanti con coraggio e saggezza le proprie scelte ben destreggiandosi tra adulti pedagoghi e psicologhe che le vorrebbero imporre una visione unica del mondo alla quale si ribella per agire con la propria volontà nell'approccio video è interessante come il contesto scuola sia il set naturale della vicenda una scuola ripresa da varie angolature privilegiando in funzione espressiva un angolo un pianerottolo una porta in una visione realistica e quotidiana di sicura efficacia come vedete abbiamo cercato di guardare e di apprezzare il lavoro questo è stato scritto per Torino che abbiamo per il liceo di Cavour che abbiamo scelto ma per ogni scuola e l'organizzazione vi manderà questa nostra motivazione chiamiamola così ve la manderà così la potete anche leggere non so se c'è qualcuno di Torino il professore se c'è allora io ci sono ci sono c'è anche Rita dovrebbe arrivare Sofia perché stavamo guardando ma non eravamo in Meet allora forse c'è anche la professoressa Bovetti siamo contenti sono contento specialmente per Sofia e per i ragazzi perché il percorso è stato particolare e loro ci hanno veramente aiutato tutto il liceo ha partecipato perché è un liceo della comunicazione ad un certo punto si è deciso di non farlo in teatro di non poterlo metterlo in scena e abbiamo avuto un attimo di sconforto ma poi con l'aiuto dei ragazzi che facevano le riprese eccetera c'è stato un coinvolgimento così come anche della parte musicale il professore di il professore Martinez il maestro Martinez che ha preparato il ragazzo che suona la chitarra con me abbiamo letto presente il ragazzo le lettere non quello che poi è stato il risultato con i ragazzi perché all'inizio era proprio solo le lettere di Sofocle e Martinez parlando con il ragazzo ha deciso a gennaio di fare quel pezzo musicale ed è stato un lavoro veramente particolare io ringrazio Sofia ringrazio Rita ringrazio Paolo ringrazio tutti i ragazzi ecco vorrei che parlassero loro e non io Sofia abbiamo scritto bene sì 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 grazie la tua approvazione ci serve vuoi dirci qualcosa Sofia Rita lo so ma in realtà appunto nulla che cioè sono contenta che sia stato apprezzato il lavoro che c'è dietro e soprattutto che sia insomma si è trasferito ecco l'impegno il significato che ci abbiamo messo dietro questa cosa della lettura della reinterpretazione un po' includendo tutti i tratti che anche del nostro liceo un po' delle nostre sfaccettature abbiamo reso nostra insomma questa questa lettura quindi sono davvero contenta che sia stato apprezzato ecco grazie io lo ripeto tutti i lavori e lo ribadisco adesso sono stati veramente apprezzati sono stati letti e con passione da parte nostra e restituiti quindi veramente vi ringrazio grazie ai ragazzi di Torina ai professori per l'impegno ma chiaramente grazie a tutti i ragazzi gli operatori teatrali vedo vedo Modena vedo Roma vedo sì vedo i ragazzi anche di Ostuni quindi grazie veramente grazie Tony grazie dell'impegno basta io ho finito e speriamo di vederci dal vivo l'anno prossimo un grazie particolare a Mimma Anna insomma tutto lo staff Ezio che ci ha sopportato in questi giorni ha risolto qualsiasi problema dalla connessione al filo interventale bravissimo e quindi lo ringrazio particolarmente grazie di questa splendida realtà grazie a te Salvatore grazie a tutti davvero anche io voglio dire da parte mia l'apprezzamento per tutte le scuole non era non era facile anzi era molto difficile e non voglio dire non voglio usare altri aggettivi imbarazzante ma abbiamo veramente ci siamo molto abbiamo molto riflettuto e sappiate che tutti tutti siete degni di apprezzamento anche di riconoscenza perché ci avete aiutato a far ripartire questa cosa se non ci fosse stati voi tutti noi non avremmo avuto una rassegna e quindi una rassegna che l'anno scorso è stata cancellata è stata prima rinviata a settembre poi abbiamo dovuto prendere atto dell'impossibilità quindi davvero siete i veri come dire i veri protagonisti i veri ma soprattutto coloro davvero che ce l'hanno ce l'hanno permesso poi c'è l'organizzazione ma senza dei partecipanti alla rassegna vero Loredana non potevamo ecco non potevamo realizzarla vi ringraziamo perché siete stati sempre presenti e abbiamo anche apprezzato questo guardate un valore aggiunto rispetto alla rassegna in presenza perché per una per una condizione che era dovuta alla logistica lo ripeto l'abbiamo già detto d'altro ieri quando nella rassegna di Altamura io proprio soffrivo per questa impossibilità delle scuole di poter rimanere e vedere tutto quello che si faceva perché ognuno arrivava faceva la propria rappresentazione e poi per necessità di rientrare doveva non poteva partecipare né ai seminari né ai convegni né ai confronti e nemmeno vedere le opere di tutti i lavori di tutti invece paradossalmente in questa situazione un po' surreale come si diceva prima questo è stato possibile perciò davvero il mio grazie personale e naturalmente adesso vedo che è arrivato il preside e sarà lui a chiudere vi ringrazio tutti e vi saluto e veramente vi aspettiamo da noi grazie arrivederci io vado via ciao salvatore poi ci sentiamo allora io credo che sta per calare il sipario e il buon presentatore deve insomma ringraziare tutta la compagnia ringrazio in primis perché distante in questo momento è venuta a casa la nostra chiamiamola esperta ma è con il cuore che questa esperienza l'ha costruita la professoressa Bruno i nostri qui ad Altamura la professoressa Cornacchia la professoressa Anna Lisa Di Vincenzo la professoressa Clara De Mari e credo manchino ancora il professor Palmisano la professoressa Lo Iudice e un grazie significativo perché in chiusura è questo che voglio dire ai ragazzi che sono qui che hanno dato insomma veramente la spinta io l'altro giorno dicevo che il fine giustifica il mezzo e dell'entusiasmo ma oggi sento di ringraziare perché ho visto personalmente anche l'opera della scuola di Torino quindi è stata una delle poche che ho potuto visionare ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato attraverso le loro scuole credo che questa sia la vera scuola lo dico ai miei ragazzi che sono qui lo dico con l'idea di una passione che non deve mai mancare e che avete costruito saggiamente ai tecnici ai ragazzi che hanno mostrato veramente il il piacere di darci questa gioia perché non è facile va il ringraziamento dalla nostra comunità Cagnazzi e dulcis in fundo ma non per ultimi Greta ed Ezio veramente i motori e i rotori di questa rassegna un grazie e alla prossima a tutti arrivederci grazie Grazie a tutti